Bene, buonasera a tutti. Chiedo al Segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nominano scrutatori, consiglieri Walter Manzon, Giuseppe Pedicini e Marco Salvadori. Arriverà in ritardo il consigliere Tavella che mi ha annunciato il ritardo. E il consigliere Chiarato. Il consigliere Chiarato e la consigliera Daniello. Bene. In riferimento all'articolo 67 del regolamento del Consiglio Comunale, comunico che è stata fornita risposta alle seguenti interrogazioni di risposta scritta. Numero 57 del 25 settembre 2015. Maltrattamenti animali, consigliere Giannelli. Comunico al Consiglio che se si è articolo 30 del regolamento, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta. Consiglieri, qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico le decisioni prese dalla conferenza dei presidenti dei gruppi consiglieri per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Questa sera, all'inizio, ci sarà la deliberazione per quanto riguarda la surroga del consigliere dimissionario, consigliere Loris Pasut. Dopodiché passeremo all'esame di tre interrogazioni e successivamente passeremo all'esame della deliberazione sul piano acustico. Fino all'esaurimento di questa deliberazione, se rimarrà tempo prima del 22.30, affronteremo le mozioni. Facciamo subito la surroga del consigliere Loris Pasut. Prego, date la parola al consigliere. Allora, proposta numero 35, surroga consigliere dimissionario, il signor Loris Pasut e con il signor Sperotto Alessandro. do la parola al segretario. Il documento vi è stato trasmesso come integrazione urgente all'ordine del giorno precedente. Il primo dei non eletti dopo il consigliere Pasut sarebbe stato il signor Agostino Pavan, il quale però ha rifiutato. Pertanto adesso il consigliere Pasut verrà surrogato dal consigliere Alessandro Sperotto. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno iscritto. Secondo intervento. Nessuno. Dichiarazioni di voto. Nessuna. Pertanto, dichiaro chiusa dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto. Proposta numero 35, surroga consigliere dimissionario, il signor Loris Pasut, con il signor Sperotto Alessandro. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Signori consiglieri, avete votato? Consigliere Piccin, consigliere Isena, non mi interessa. Non partecipate. Bene, dichiaro chiusa le operazioni di voto. L'esito alla votazione è il seguente. Presenti 29, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuto nessuno, la deliberazione è stata approvata. Pongo ora i voti l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiusa le operazioni di voto. L'esito alla votazione è il seguente. Presenti 29, votanti 29, maggioranza 21, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuto nessuno, la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Invito il consigliere Alessandro Sperotto ad entrare. Deve inserire la tessera. Adesso un attimo di pazienza perché devono aggiornare il sistema informatico. Grazie. 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 Buonasera signor Sindaco, buonasera Assessori della Giunta, buonasera consigliere e consiglieri. Sono onorato di far parte di questo Consiglio Comunale per questa città che comunque mi ha dato moltissimo. Spero di poter contribuire anch'io a dare qualcosa a questa città anche in questa veste di consigliere. Volevo ringraziare la lista al ponte per la fiducia che mi ha accordato, un ringraziamento particolare a Gianni Zannolin, a Loris Pazut e anche ad Agostino Pavani. Dovrò ricoprire e sostituire l'Oris dopo tutti questi anni e questo percorso lunghissimo. Non sarà sicuramente facile, anche perché avrò comunque pochissimo tempo. Cercherò comunque di farlo al meglio. Cercherò di portare l'attenzione di questo Consiglio Comunale agli argomenti che sono a me cari, in particolare la tutela dell'ambiente e la salute pubblica. Vi ringrazio ancora. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prima di cominciare i nostri lavori, solo un breve passaggio per commemorare a 40 anni di distanza la morte di Pierpaolo Pasolini. Voi sapete, quest'anno e soprattutto in questa parte dell'anno sono in corso nella nostra regione, ma in particolare nella nostra provincia, che è stata una serie di momenti proprio per ricordare questo uomo così complesso e nel suo periodo, nel periodo della sua vita così controverso, che porterà questa sera ad avere nel Teatro Verdi di Pordenone un grande concerto, il suo ricordo, che avrà una risonanza nazionale. Io penso che come Consiglio non solo ci associamo a questo momento di ricordo e a questo momento così profondo di interrogativi, sugli interrogativi e le risposte a quanto Pierpaolo Pasolini nei suoi scritti ci aveva proposto 40 anni fa, più di 40 anni fa. Io personalmente vi confesso sono assolutamente contrario alle santificazioni delle persone, perché se voi leggete e rileggete oggi a 45 anni di distanza i suoi scritti corsari, cioè quella serie di articoli che erano stati pubblicati e sono varie testate nazionali, da un lato vi accorgete di quanto attuali ancora siano quei dibattiti e quegli interrogativi che venivano posti. Probabilmente non ci fa completamente onore a 40 anni di distanza, forse qualcosa poteva essere risolto. Dall'altro l'asprezza con cui Pierpaolo Pasolini poneva questi dibattiti, questi interrogativi, certamente fa capire quanta tensione si fosse creata attorno a lui come persona. Se qualcuno di voi ha visto ieri sera il film che è stato proiettato su Rai, mi sembra 5, proprio ancora una volta un film datato sulla morte di Pasolini, forse può ancora meglio cogliere il senso, il significato delle mie parole. Quindi non è una santificazione, ma in effetti una domanda profonda, forse quella che ci dobbiamo porre, quanti degli interrogativi che lui poneva, quanti delle situazioni sociali che venivano evidenziate nei suoi scritti sono ancora oggi domande scomode per noi, per chi fa politica, per la nostra società, e quanto è il nostro obbligo di dare ancora risposte al tema dei diritti, al tema della vera disuguaglianza all'interno della nostra società. Se è vero, com'è vero che la nostra società si è trasformata in una società solo di consumismo, ormai penso che su questo ci sia poco da discutere, e quanto noi siamo in grado di reagire a modelli di questo tipo. Comunque io non volevo fare qui un lungo momento di ricordo, insisto perché la somma delle iniziative a livello regionale e provinciale credo che sia di fatto prova di quanto sia l'interesse, quanto sia non solo l'affezione, ma il grado al magnetismo che questa persona ancora oggi esercita nella nostra nazione e nella nostra società. Cediamo perché io poi ho una cosa più tecnica da comunicare. Consiglio Loperfido e consiglio Passone, vi siete iscritti per parlare di questo argomento? Grazie Presidente, grazie Signor Sindaco. Ha ragione, Pasolini viene considerato uno dei più grandi pensatori del Novecento italiano, abbiamo avuto l'onore di poterlo considerare un pensatore che proviene dal nostro mondo, dal Fulvio Venezia Giulia e dalla provincia di Pordenone. Ed ecco perché proprio nel momento in cui cade il quarantesimo anniversario di un pensatore che magari in modo controverso, del quale in modo controverso hanno cercato di appropriarsene politicamente quando invece era proprio un pensatore libero, nel momento in cui c'è il quarantesimo anniversario della morte di Pasolini e c'è un evento di importanza nazionale nella nostra città, forse il modo migliore per commemorare questo pensatore era non convocare questo Consiglio Comunale in concomitanza con questo evento. Quindi penso che sia una grave mancanza da parte di questa amministrazione convocare contemporaneamente un evento così importante del Consiglio Comunale visto che il modo migliore per ricordarlo come pensatore locale, pensatore nazionale era quello magari di prendere parte anche in quanto amministratori del Comune Capologo e della provincia di Pordenone. Grazie consigliere. Prego consigliere Passoni. Silenzio. Signor Sindaco e colleghi consiglieri. Credo che le sue parole siano state più che esaurienti, però mi permetto di dire che un intellettuale così è un orgoglio, penso, per tutti averlo letto, averlo sentito, averlo visto nei suoi film. Molti critici, tra i quali credo uno dei primi è stato, critici nel senso del termine, è stato Alberto Moravia, che l'ha considerato uno dei più grandi poeti del Novecento. Io non sono così umile, ma mi associo pienamente e del resto, quando scelsi di fare un piccolo video che ho chiesto se è possibile, naturalmente vediamo se saranno risolte le questioni tecniche, io spero di poter omaggiare in memoria di Pasolini quest'aula, di questo video di dieci minuti che ricorda proprio il Pasolini poeta friulano. Credo che è un omaggio che potremo fare non solo all'aula, ma alla città. Certo, da un'altra parte c'è un grande concerto internazionale che spero e sicuramente avrà i migliori successi, come tutte le altre iniziative in favore di questo grande intellettuale del Novecento che ci ha lasciato messaggio che è di autorità assoluta rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento, in questo Paese. È una persona scomoda a tutti, ancora oggi morto, adesso viene molto celebrato rispetto a quando era in vita, in vita ha avuto molte critiche anche da altri versanti, da tutti i versanti credo, anche dallo stesso suo partito, proprio perché era un pensatore libero, come dovremmo esserlo tutti di fronte alla comunità, di fronte al Paese, a cui lui credeva molto e chiaramente certe sovrastrutture che mettevano in difficoltà la vera politica, sicuramente lui era uno dei più critici, non solo dell'aspetto del consumismo, che sicuramente è stata una delle sue battaglie, quello dei diritti, ma anche quello di poteri occulti o poteri forti. E ancora oggi non sappiamo esattamente se è stato Pelosi o solo lui o forse, come io penso, come diceva lui, io non so, ma non ho le prove. Ecco, che forse non era solo Pelosi e che forse c'era qualche altro mandante per una persona così scomoda, non solo per l'Italia. Quindi mi sento di, se quest'Aula e tutti i gruppi saranno d'accordo e se ci sarà risolto il problema tecnico, io mi auro che, magari a fine seduta, si possa vedere questo video di dieci minuti, tra l'altro premiato al centro delle ricerche pasoliniane di Casarsa, nel lontano 94. un video che ho fatto insieme a un altro amico regista. Grazie. Grazie consigliere Passoni. Prego, consigliere Pedicini. Non prendo la parola per aggiungere ulteriori commemorazioni che sono già state fatte dal sindaco e avevo piacere solo a farlo. Volevo solo invece invitare questo consiglio prima di tutto a approfittare di questa occasione per soffermarsi magari sugli scritti di Pasolini e magari invito tutti i consiglieri ad approfondire alcuni temi che sarebbero molto interessanti ancora oggi al di là delle posizioni. Ma forse sarebbe opportuno che in occasione del quarantesimo anniversario questa amministrazione comunale si distinguesse con un'azione concreta e un segnale concreto. Al di là del fatto che questa sera siamo stati ad altre rappresentazioni, ad altre celebrazioni del quarantesimo erano più appuntamenti e non c'era solo quello di questa sera ce ne sono stati altri però effettivamente avremmo dovuto a mio avviso fare qualcosa di concreto e quindi ho l'impressione che l'ha fatto la provincia e questo va bene per una questione un po' per tutto il territorio però anche il consiglio comunale anche il comune di Pordenone comune capoluogo avrebbe potuto fare qualche cosa. Siamo ancora in tempo non è detto e quindi potremmo effettivamente decidere attraverso la nostra Commissione Cultura decidere che tipo di iniziativa intraprendere per lasciare un segno di questo tempo perché al di là delle parole ed è proprio quello che forse non voleva neanche Pasolini e delle rappresentazioni di facciata fare qualcosa di concreto in questo momento potrebbe essere più utile. Non voglio suggerire io anche se ho qualche idea ma magari la Commissione Cultura potrebbe riunirsi e poter anche intervenire su questo. Ecco, questo è il motivo del mio intervento. Va bene, grazie. Allora, per quanto riguarda invece il filmato di cui parlava il consiglio Passoni se riusciremo a risolvere i problemi tecnici verrà proiettato a fine serata dopo la chiusura dei lavori una durata di 10 minuti mi sembra di capire. Bene. Signor Sindaco per le altre comunicazioni prego. Ecco, questa è una comunicazione relativa alla deliberazione della Giunta Comunale numero 170 del 12 ottobre 2015 avente per oggetto prelievo dal fondo di riserva. Quindi, secondo l'articolo 40 del regolamento di contabilità si prevede che le deliberazioni della Giunta Comunale riguardanti i prelievi dal fondo di riserva vengano comunicate al Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla loro adozione. e quindi comunico l'adozione da parte della Giunta Comunale della seguente deliberazione del numero 170 che cosa dice questa deliberazione? Dunque parla di uno stanziamento di un totale di 23.800 euro dal fondo di riserva ai seguenti capitoli. allora capitolo 781 manutenzioni varie del centro di costo 16.001 corpo intercomunale di polizia municipale per 5.000 euro manutenzioni varie dei mezzi poi spese diverse capitolo 12 47 spese diverse per gli automezzi per trasporti trasporti scolastici per 2.800 euro 6.000 euro suddivisi tra spese ANAC al capitolo 60-30 servizi amministrativi del centro di costo farmacie comunali e per la pubblicazione e l'esplitamento della gara d'appalto per l'acquisto di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali e quelle dei comuni di Cordenonsa Sacile San Vito Tagliamento 10.000 euro al capitolo 24-20 prestazioni di servizio ambito distrettuale urbano 6.5 minori ambito di Pordenone per alcuni casi impossibile protezione ora in esame della magistratura quindi il totale che vi ho accennato è di 23.800 euro che sono stati quindi portati dal fondo di riserva ai capitoli che vi ho appena elencato e come susseguente azione il piano esecutivo di gestione è stato modificato per tener conto di questa variazione di bilancio finito grazie signor sindaco prego siccome abbiamo letto una presa di posizione del sindaco abbastanza forte oggi sulla stampa riguardo una riguardo una situazione un po' al limite del rispetto dei regolamenti comunali ovvero presenze fuori dal orario previsto del regolamento all'interno di un parco cittadino per motivi non chiari e con modalità magari poco chiare penso che proprio per una città che deve essere l'insegno del rispetto della legalità anche per capire se magari visto che non c'è nessun intervento da parte della polizia municipale nei confronti di chi non sta rispettando il regolamento comunale che prevede che dopo una certa ora non si può stare nei parchi vogliamo sapere da lei sindaco e penso che sarebbe anche il caso che facesse delle comunicazioni qual è l'effettiva situazione del parco di San Valentino per capire se la situazione del parco di San Valentino è una situazione che lei sta tenendo sotto controllo il regolamento comunale viene costantemente rispettato c'è qualcuno che sta violando il regolamento c'è una direttiva da parte dell'amministrazione comunale oppure siamo in presenza di un mancato rispetto del regolamento comunale che prevede il non pernottamento all'interno dei parchi perché di fronte a una città che deve insegnare rispetto della legalità penso che sia necessario carire quale sia la situazione ed ecco perché chiedo che ci siano delle comunicazioni in merito da parte del sindaco Scusi il consigliere Piccinato lei ci è iscritto anche lei fa una richiesta analoga sì scusate era un po' aggiunto questo argomento no non volevo oltre a dare il mio completo supporto alle richieste del consigliere Loperfido chiedo anche che cosa ha intenzione di fare l'amministrazione per gli atti di vandalismo che sono avvenuti nell'asilo di Torre e quindi perché appunto anche lì la città veramente sta diventando sta diventando scampia da tutti i lati perché davvero c'è un degrado ormai dilagante in tutti i sensi che è sempre veramente peggio è inutile che dite no vogliamo sapere che cosa si vuole fare per sistemare allora facciamo silenzio siccome non abbiamo introdotto il question time in questo consiglio chiedo subito all'amministrazione se intende rispondere perché se ci fosse questa disponibilità possiamo continuare con queste richieste altrimenti io le chiudo perché non avrebbero ragione d'essere il gruppo di maggioranza la metterei in coda non è importante quando tornano a casa loro non rispondiamo bene avete intenzione di fare no scusa 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 come mi penso questo poi scusa e va bene ma scusa dunque e allora niente e allora niente nessuno ha presentato mozioni d'ordine ma è una mozione d'ordine o no 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 la richiesta fatta l'amministrazione è libera di accogliere o meno ovvio che se te l'accogli poi loro vogliono intervenire sì ma se l'accogli vogliono intervenire ma se te l'accogli vogliono intervenire poi al consigliere al consigliere piccinato risponderò successivamente la situazione al parco di san valentino non è assolutamente monitorata dai nostri vigili con le forze dell'ordine perché non dimentichiamo che gli interventi a fronte di situazioni di questo tipo devono essere condivise con prefettura e con questura le azioni che andremo a intraprendere questa settimana porteranno alla sistemazione e al fatto che queste persone troveranno l'ospitalità che è prevista non da nessun consiglio regola regionale comunale ma evidentemente segue quelle che sono le regole dell'emergenza dell'accoglimento dei profughi che sono state emanate dal governo italiano le mie prese di posizione sulla stampa sono state piuttosto chiare io penso che se la solidarietà che la città in alcune delle sue parti dimostra di voler di voler avere lo può fare tranquillamente usando gli spazi che sono di loro proprietà o di loro gestione quindi a volte questi improvvisi fughe in avanti mi sono sembrate leggermente pretespose ed è quello che ho esattamente detto questa sera anche in una dichiarazione a Telepordenone che queste non siano cose semplici lei può dire quello che vuole sul fatto di seguire alla lettera regolamenti ma sicuramente tutte le ragioni di questo mondo noi abbiamo assunto in modo conscio confrontandoci con prefettura e con questura questa linea che porterà in breve a non solo a risolvere questa situazione peraltro situazione ben conosciuta mi sono confrontato con altre città della nostra regione dicono del resto d'Italia in cui queste cose sono già venute in forma direi esplosiva quindi parlo di Udine Gorizia mi sono confrontato con due sindaci anche di appartenenza politica diversa per avere e no Gorizia e Udine Comune Romole no con due di tendenze di appartenenze diverse di appartenenze diverse proprio per condividere la loro esperienza che rispetto alla nostra è stata decisamente anticipata all'inizio dell'estate che ha portato fenomeni difficilmente controllabili e dove il Comune di fatto ha un ruolo di assolutamente di aiuto e di affiancamento a Prefettura e Questura ma non può sostituirsi a Prefettura e Questura circa il fatto che noi perché questo è un accordo stiamo monitorando la situazione assolutamente per ore e per ogni momento della giornata l'azione è stata concordata con Prefettura e Questura e nel momento giusto attueremo anche le azioni vere e proprie di aiuto a queste persone circa gli atti vandalistici e il fatto che noi siamo Scampia a parte che sicuramente ci sarà un'interrogazione su questo quindi rimando è solamente un anticipo immagino dell'interrogazione consiglierei di fare un viaggio posso visto che abbiamo questa specie di gemellaggio con Scampia posso consigliare personalmente qualcuno che può fare da guida profonda all'interno della città non perché conosco i camorristi ma conosco chi segue nel CERT le persone in difficoltà a Scampia potrebbe essere lo dico dal cuore non lo dico con ironia potrebbe essere un'esperienza utile e posso anche agire e aiutare nell'organizzare un viaggio di questo tipo grazie passiamo passiamo all'interrogazione adesso fanno il dibattito no non vedo nessuno iscritto pertanto io passo all'interrogazione no sentite allora va bene interrogazioni allora interrogazione numero 39 sulle nomine della società Pordenone Fiere SPA puntata 2 il sottoscritto Francesco Ribetti consigliere del comune di Pordenone facente parte del gruppo consigliare del popolo della libertà premesso che il sindaco più volte nei discorsi sulla stampa ha ribadito di voler fare della trasparenza e della meritocrazia uno dei punti di forza della propria amministrazione per quanto riguarda le nomine di propria competenza il sindaco più volte ha rivendicato la propria provenienza dalla società civile di non essere un uomo di politica e soprattutto di essere scollegato dai predi politici ribadendo di essere nel gruppo misto in consiglio comunale in ossequio a ciò si è fatto parte attiva sin dall'inizio del proprio mandato nel portare all'approvazione del consiglio gli indirizzi generali per le nomine e disegnazioni dei rappresentanti del comune presso enti aziende società e distituzioni di competenza del sindaco l'articolo 1,3 di tali indirizzi testualmente recita i rappresentanti del comune saranno individuati tra i cittadini che hanno i requisiti per la nomina consigliere comunale e che oltre a comprovate doti di preparazione ed esperienza diano garanzia di obiettività competenze professionali e moralità pubblica l'articolo 1,3 di tali indirizzi testualmente recita nelle nomine e nelle disegnazioni dei rappresentanti del comune presso enti aziende società e istituzioni devono essere osservati di norma i principi della non comunabilità degli incarichi in enti aziende società e istituzioni della promozione del ricambio generazionale e della garanzia di pari opportunità di genere già in passato in occasione della prima nomina effettuata nella società Pordenone Fiera S.P.A. nel 2012 fu data ampia eco sui mezzi di stampa ed invito ai cittadini a proporre la propria candidatura per la nomina presidente della società Pordenone Fiera S.P.A. inviando il proprio curriculum salvò poi prendere atto che il sindaco nonostante i 54 curricula pervenuti aveva provveduto a nominare a nominare nuovamente quali consiglieri di amministrazione della società i due medesimi soggetti come una pace per lo sbandirato rinnovamento sia generazionale che di genere soggetti legati a formazioni politiche che erano state alleate lo avevano supportato nell'elezione al sindaco come una pace per lo sbandirato distacco dalla politica dei partiti e della meritocrazia il comportamento ottenuto dal sindaco ha portato alla grande sfiducia della gente nei confronti degli avvisi del sindaco per le nomine tanto che nell'ultima occasione i curricula pervenuti si sono drasticamente ridotti a due uno del nominato oltre ad un altro lo scrivente già in tale occasione aveva presentato interrogazione al fine di chiedere lumi sul comportamento ottenuto dal sindaco ricevendo risposte evasive di comode palesemente poco verosimili il sindaco in occasione delle nuove nomine in fiera ha pubblicato avviso di selezione allegato 1 indicando i criteri requisiti richiesti alla figura da nominare quale presidente è giunta notizia della nomina di tal Robert dottor Roberto Ongaro da Padova del 1947 quindi di anni 68 che da quanto emerge dalla stampa risulterebbe membro della direzione regionale veneta del partito democratico oltre che già consigliere provinciale per quel partito partito che sostiene il sindaco Pedrotti tutto ciò premesso sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. quanti siano i curricula pervenuti per ricoprire la carica del presidente della cittata società con richiesta di ricevere copie dei curricula ricevuti al momento dell'iscrizione della presente interrogazione all'ordine del giorno e comunque prima della discussione in consiglio comunale 2. quali siano le competenze specifiche e le comprovate doti di preparazione e esperienza che diano garanzia di obiettività competenze professionali e minorità pubblica possedute dal soggetto nominato che gli altri candidati non possedevano o è stato considerato possedessero in misura inferiore 3. in che modo la nomina effettuata si coniuga con la previsione portata dai citati indirizzi volta alla promozione del ricambio generazionale della garanzia di pari opportunità di genere 4. se non vi fossero tra i curricula pervenuti soggetti da città e o della provincia di Pordenone e o comunque della regione in possesso delle specifiche competenze richieste ed in tali ipotesi quali siano le competenze mancanti in tali soggetti 5. se il sindaco fosse a conoscenza dell'appartenenza del nominato alla direzione regionale veneta del partito democratico e se tale appartenenza abbia avuto un peso nella nomina 6. se il sindaco ritiene di aver operato nel rispetto delle linee guida di cui il regolamento approvato e se ritenga di aver operato al meglio a favore della città e con rispetto verso i pordenonesi cittadini della provincia e della regione firmato francesco ribetti presidente del gruppo consigliare del popolo della libertà fratelli d'italia prego signor sindaco grazie grazie presidente era da tempo che attendevamo l'arrivo di questa interrogazione del consigliere no ma non è sei mesi diciamo c'è stata una reiterazione nei commenti nei commenti allora vediamo di al solito di usare bene il tempo io le ho speravo che sinceramente ne fossero già arrivati comunque le ho fornite anche questa sera copia dei sette curricula a sto punto per cui lei ha la possibilità di vederli uno per uno ed in dettaglio ora io sui sette le persone che avevano evidenti caratteristiche per poter far parte del CDA sono state anche dalla relazione tecnica allegata sono state identificate in Laura Ferrari che ha un trascorso di manager in electrics sia in logistica che in controllo di gestione che in information technology Roberto Ungaro appunto che è stato già citato e ha una consistente formazione di tipo manageriale è stato amministratore delegato di una società di engineering per circa sette 12 anni e ha avuto è vero incarichi anche politici e nella parte sanitaria del padovano oltre che un'interlocuzione abbastanza feconda con la fiera di padova e infine Dario Scotto che diciamo la sintetizza anche qui manager del gruppo Sassoli di Milano ex manager Zanù Electrolux e che nel suo curriculum vanta la presenza in un certo numero di consigli di amministrazione o come presidente o come amministratore delegato in varienti e è stato anche presidente della Promotour dal 1988 al 2000 e l'ultimo lo cito almeno per dovere di veniva il curriculum veniva tra i curriculum figurava anche quello di un consiglio di membro del consiglio di amministrazione precedente che ho preferito non considerare proprio per creare una discontinuità all'interno del consiglio di amministrazione e alla fine io conosco alcune di queste persone evidentemente voi capite erano anche ex colleghi Dario Scotto aggiungo è un personaggio di Savona è presente diciamo nella nostra città da un certo numero di anni nel senso ricordo bene da quando perché eravamo insieme nella costruzione dell'allora nuova fabbrica di Porcia e è anche noto per essere stato uno dei fondatori del golf club locale sport che esercita con grande perizia e con grande investimento di tempo ecco in questa ottica ho scelto in modo assolutamente determinato due persone Laura Ferrari e quindi con la presenza di una persona che ha un chiaro curriculum di tipo manageriale e una donna diciamo dal punto di vista della determinazione della carriera professionale molto precisa come come profilo e Roberto Ongaro che per il suo trascorso sia professionale che di conoscenza dei meccanismi che ci sono all'interno della pubblica amministrazione dei suoi collegamenti con il mondo veneto vedo come un valore aggiunto che si associa è andato ad associarsi con l'amministratore delegato Piccinetti che già è stato riconfermato nel suo ruolo nel momento in cui la discussione sul controllo di amministrazione è stata effettuata proprio per dare la possibilità come abbiamo già citato che nel suo caso fosse possibile vedere il secondo anno del suo mandato e quindi vedere o no la raccolta di quanto seminato nel primo ma che d'altra parte persone che possono dare contatti particolarmente importanti e frequenti e fecondi con il mondo esterno a quello portainonese potesse completare questo il controllo il gruppo insomma che gestisce la fiera in questo momento e che fa fronte evidentemente ad un periodo non particolarmente facile e semplice della nostra fiera allora io il curriculum glielo ho dati ho spiegato qual è stato il processo con cui sono arrivato alla determinazione e alla scelta credo di aver promosso un ricambio e la presenza di genere all'interno di un CDA che non credo non avessi mai visto prima ero certo a conoscenza del impegno politico di Roberto Ongaro ma anche se non sapevo che avesse questa specifica carica a livello regionale che ha già lasciato e credo proprio di aver agito con fino in fondo per il bene della città e dell'ente fiera le volevo anche le confesso che avevo pensato di risponderle semplicemente di sì o di no alle varie perché qualsiasi cosa io le dica lei non sarà d'accordo per cui anticipiamo semplicemente gli argomenti se vuole li svolgo dal suo punto di vista ma non posso toglierle il piacere di fare l'intervento prego consigliere Ribetti può dichiarare se si ritiene grazie non ho fatto altro che premere un pulsante grazie grazie presidente ringrazio il sindaco che però è di memoria corta nel senso che quando c'è stato da rivolgere degli apprezzamenti anche pubblici raramente raramente ma l'ho fatto quindi e proprio stasera e proprio stasera ho messo una camicia che a lei piace tanto proprio perché sapevo che finalmente eravamo arrivati alla discussione su questa su questa interrogazione visto che lei era citata una sera che non c'era l'ho rimessa proprio in onore suo signor sindaco e la stupirò dichiarandomi a metà soddisfatto a metà perché perché almeno metà almeno metà di quello che ci ha sempre detto e ci ha fatto anche votare con il regolamento di inizio mandato l'ha fatto almeno un'apparvenza di di modifica nel suo modo da agire almeno ha cambiato almeno ha portato una donna all'interno del consiglio di amministrazione forse perché era l'unica che mi ha dato curriculum non lo so avrei voluto vedere con altre donne però però almeno questo devo riconoscere francamente io ho visto stasera il curriculum la ringrazio per avermi forniti e lei ha sintetizzato anche l'illustrazione è stato preciso perché ha sintetizzato anche io avrei individuato tra i papabili loro quei tre soggetti che ha indicato lei forse ne avrei messo anche un altro ma adesso non entriamo nello specifico però io forse ne avrei indicato anche un altro seguendo il criterio perché no ma io lo spiegavo forse dopo la fine proprio io lo dico in privato perché se il ragionamento che lei mi viene a fare se nell'evidenziazione delle doti diciamo delle esperienze maturate dal dottor Ongaro che non conosco quindi sarà sicuramente il manager o uno dei manager migliori in assoluto però lei me ne viene ad infettizzare io vedo che sono nella maggior parte dei casi un insieme di incarichi che a mio modo di vedere sono incarichi politici che prescindono dalla specifica competenza a differenza magari di qualcun altro che ha incarichi a mio modo di vedere diciamo forse più specifici e sono tre curricula pervenuti quindi io ritengo che anche questa volta non possa non possa e qua veniamo alla metà dell'insoddisfazione della sua risposta abbia avuto un peso determinante quindi non possa credere pienamente cioè lo credo ma lo ritengo poco verosimile la questione che l'appartenenza del dottor Ongaro a uno certo schieramento e a una certa diciamo un certo ruolo da lui ricoperto non abbia avuto peso io capisco tutto non voglio fare il ben pensante però io ritengo che soprattutto in momenti delicati lo ribadisco vadano messe le persone che possono dare delle garanzie più specifiche delle garanzie migliori proprio per il particolare momento che stiamo vivendo quindi e ciò va coniugato che è importante ed è determinante io per questo la punzecchio sempre sindaco con quella che è la sua figura perché se lei all'inizio del suo mandato fosse venuto in quest'aula senza sbandierarci l'uomo che viene in società civile l'uomo che vuole cambiare il modo il sistema l'avremmo preso come il sindaco che ha vinto le elezioni il sindaco che è giusto che si circondi di uomini e di donne che gli vengono anche magari tra virgolette imposti dalle coalizioni che lo sostengono per essere per governare perché io ritengo io sono per lo spoil system spinto cioè uno quando governa deve misurare deve portare dei risultati perché poi la gente lo va a pesare il mandato dopo quindi è giusto che si circondi le persone da cui si fida ma io non posso accettare che il sindaco della mia città si veniva a presentare in quest'aula come il mi passo il termine tra virgolette verginello puro che viene qua dice no ma mi vengo dalla società civile non ne so niente di beghe politiche e poi guarda caso le prime due nomine me ne va a fare rinomando quelli di prima su 54 curriculum creando sfiducia perché io l'ho evidenziato che la sfiducia che lei ha creato nei cittadini e adesso va a ricadere a mio modo di vedere a ricadere sbagliando sbagliando nominando le persone che sono legate in qualche maniera ai partiti che la sostengono concludo sindaco con una riflessione lei forse poteva fare di questa sua provenienza ad un uomo civile il suo punto di forza all'interno di questo mandato soprattutto legato al fatto che i partiti che la sostengono l'avrebbero mandato a casa io più di qualche volta l'ho punzecchiata sulla base delle sue dichiarazioni mi ricordo la riduzione del numero degli assessori mi ricordo proprio le nomine in fiera lei doveva fare di questa sua provenienza la sua forza la gente a mio modo di vedere l'avrebbe apprezzata molto di più se lei veramente avesse fatto vedere di essere un uomo libero e non tra virgolette legato all'indicazione del partito quindi mi dichiaro come ho detto parzialmente soddisfatto e parzialmente no grazie grazie consigliere interrogazione numero 46 gruppo consigliere PDL fratelli d'Italia interrogazione oggetto utilizzo carte identità elettronica per accesso a cocentro e snellimento burocrazia tramite tecnologia riscontrato da notizie su organi di stampa dal sito internet di GSPA e dalla pagina facebook dell'assessore all'ambiente che per accedere all'ecocentro gestito da GSPA richiesta la testa sanitaria magnetica o il codice fiscale come nel caso in cui un cittadino si recchi prima di testa sanitaria o codice fiscale presso il suddetto centro è tenuto a compilare un formulario cartaceo in cui si chiedono tutta una serie di informazioni che sono palesemente riconducibili al semplice codice fiscale che il comune di Pordenone è stato uno dei primi comuni ad attivare e consegnare ai cittadini la carta di identità elettronica CIE che sul sito internet del comune riportato come la carta di identità elettronica diventerà la chiave elettronica con cui il cittadino potrà accedere in forma univoca e sicura ai sistemi alle banche dati informatiche e ai servizi telematici della pubblica amministrazione che questa amministrazione ed in particolar modo il sindaco si è presentata affermando che avrebbe fatto ricorso alla tecnologia esistente per ridurre la burocrazia e semplificare il più possibile il rapporto tra cittadini ed ente che GSPA è società partecipata dal comune di Pordenone col 96,876% di azioni fonte sito web comune di Pordenone il sottoscritto chiede all'amministrazione se il comune di Pordenone che tra i primi ha introdotto il rilascio della carta di identità elettronica ha intenzione di dare direttive a GSPA della quale il comune possiede il 96,876% di azioni affinché anche la carta di identità elettronica sia riconosciuta quale valido documento per accedere all'ecocentro se, dato che in caso di cittadino che si recchi presso l'ecocentro privo dei documenti richiesti lo stesso è tenuto alla copilazione di un formulario cartaceo in cui si richiedono diverse informazioni è intenzione dell'amministrazione intercedere presso GSPA finché al cittadino venga chiesto solo di compilare il codice fiscale e non il completo formulario in modo da sveltire l'accesso all'ecocentro se è intenzione di questa amministrazione valutare tutte le pratiche e i rapporti con i cittadini in cui si possa intervenire e tramite l'utilizzo degli strumenti e della tecnologia esistente già in possesso dei cittadini e dell'ente semplificare la burocrazia onde evitare di chiedere ai cittadini ripetute volte informazioni di cui l'amministrazione è già in possesso firmato consigliere Emanuele Loperfido Assessore Conficoni prego Sì grazie Presidente grazie anche al consigliere Loperfido per l'interrogazione che mi dà la possibilità di evidenziare come sia l'amministrazione comunale che GEA siano impegnate non solo a ridurre i costi di gestione ma anche ad ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche per aumentare la raccolta differenziata proprio questa settimana mercoledì cambierà la raccolta dei rifiuti prodotti delle attività mercatali che si uniformerà a quella già entrata in vigore alla fine dello scorso anno come modalità nell'area centrale in modo tale da poter superare la raccolta definitivamente la raccolta multimateriale evitare costi di selezione e valorizzare meglio i materiali raccolti generando un ulteriore introito in termini di contributi con AI al cui livello il consigliere Loperfido è sempre attento questa novità segue quella introdotta recentemente il 14 ottobre nella zona nord della città quella al di sopra di Viale Venezia e di Via Maestra Vecchia dove la raccolta e il rifiuto secco residuo avviene una volta ogni 15 giorni e dove gli utenti finalmente hanno la possibilità di accedere all'ecocentro di Groverdo in Piano grazie alla convenzione che è stata approvata dal Consiglio Comunale con coordenoso vi sono maggiori difficoltà legate al ritardo con cui il Comune sta facendo i lavori propedeutici diciamo all'ampliamento degli accessi anche ai nostri utenti queste innovazioni hanno portato con sé l'informatizzazione degli accessi alle strutture stesse messe appunto in rete in modo tale da poter superare sia la registrazione cartacea ma anche da poter effettivamente misurare anche in tempo reale quello che è l'effettivo utilizzo dei centri di raccolta il documento che GEA ha inteso richiedere agli utenti che si recano all'ecocentro è la tessera sanitaria perché questa è in possesso di tutti i cittadini diversamente dalla carta di identità elettronica che oggi è posseduta da 21.315 residenti su 51.452 quindi il 41% dei pordenonesi ha la carta di identità elettronica invece la tessera sanitaria ce l'hanno tutti per questo motivo GEA ha privilegiato la tessera sanitaria c'è una differenza che non è legata solo alla quantità la numerosità di cittadini che possiedono i due diversi documenti una differenza tra i documenti stessi la tessera sanitaria è dotata di banda magnetica mentre la carta di identità elettronica di banda ottica il lettore di cui GEA si è dotata è in grado di leggere solo la tessera sanitaria solo la banda magnetica quindi per poter leggere anche la carta di identità elettronica bisogna fare un adeguamento del lettore allora ho chiesto al dottor Mariotto un preventivo se sarà contenuto dato che comunque già oggi tutti i cittadini possono accedere all'ecocentro con la tessera sanitaria e solo meno della metà potrebbero farlo con la carta di identità elettronica chiederemo a GEA di fare l'investimento perché il rapporto costo benefici lo rende effettivamente valido diversamente no per quel che riguarda i cittadini privi di documento che si recano all'ecocentro GEA mi ha assicurato che è sufficiente compiare il formulario anzi anche semplicemente comunicare quello che è il codice fiscale all'operatore vi sono però alcuni limitati casi in cui purtroppo i dati dei database in possesso della società non sono allineati per cui GEA coglie l'occasione quando si recano all'ecocentro degli utenti che si trovano in questa situazione di fargli compiare il formulario in modo da poter mettere a posto questa situazione e così la volta dopo che l'utente accede all'ecocentro con la tessera sanitaria non ha bisogno diversamente se anche una seconda volta si dovesse recare senza documento basterà che sarà sufficiente diciamo che enunci all'operatore il codice fiscale più in generale per quel che riguarda la semplificazione delle procedure è proprio un fatto di qualche settimana i nuovi residenti a Pordenone che si registrano all'anagrafe non si devono più recare l'ufficio tributi per fare la registrazione Tarsu ma questa è una pratica diciamo che viene svolta d'ufficio attraverso una comunicazione cartacea rivolta all'utente è una novità assolutamente positiva che va nella direzione dell'Euspicata e conferma la volontà di questa amministrazione di cercare di limitare il più possibile gli oneri a carico dei cittadini grazie grazie assessore prego consigliere grazie presidente grazie assessore mi viene da sorridere quando sento lei perché mi ricordo momenti in cui preso dal panico perché impreparato cercavo di arrampicarmi sugli specchi durante l'interrogazione allora magari la prendevo un po' larga per cercare per cercare poi di arrivare magari un'esposizione che potesse arrivare alla sufficienza no perché guardi assessore se lei mi dice allora intanto devo dire che non è che si vede un'interrogazione che parla di ecocentro in automatico dove andare l'assessore che cura GEA mi sarei aspettato che questa interrogazione venisse gestita visto che si parla di semplificazione amministrativa mi sarei aspettato che fosse l'assessore competente a rispondere e deduco che magari guardandola dal punto di vista di un consigliere dell'opposizione che c'è stata poca attenzione da parte dell'amministrazione nei confronti di questa interrogazione e questa cosa viene riconfermata nel momento in cui al punto finale la risposta è stata vedremo di fare qualcosa per cercare di semplificare quando lei ha fatto l'annuncio su facebook sul canale ormai il suo preferito 6 di Pordenone 6 quindi ogni singola cosa che questa amministrazione fa viene viene costantemente continuamente postata da lei su questo nuovo organo di stampa organo mediatico anche quando magari non sono di sua competenza per le quali magari si prende carne pur non essendo di sua competenza allora sono andato a vedere di persona come funziona l'ingresso all'ecocentro e vedo che c'era una fila all'ecocentro per cui sono andato via perché non volevo perdere tempo sono tornato il giorno dopo e la fila era perché nel momento in cui una persona non aveva la testa magnetica la testa sanitaria o il codice fiscale doveva compilare tutto il modulo cartaceo doveva compilare tutto il modulo cartaceo ecco la fila e allora io mi chiedo ma scusate un attimo sia mai che Gea che è totalmente del comune di Pordenone non sia collegato o non sia in grado non sia in grado tramite un codice fiscale di avere tutti i dati e lei mi ha appena confermato guardi non è un problema mio è un problema grave di questa amministrazione e per quello doveva intervenire l'assessore competente perché se lei mi dice che l'azienda municipalizzata non ha i dati che corrispondono al codice fiscale del quale è in possesso il comune di Pordenone penso che ci sia qualcosa che non va e allora lei dice no Gea chiede i dati perché così poi è sicuro che corrispondano a quelli del comune di Pordenone e allora io dico ma se abbiamo 22.000 testere carte d'identità elettroniche che sono utilizzate in città e 50% è tanto assessore non è poco ecco è tanto siamo uno dei comuni in Italia che ha più del 40% di cittadini con la carta d'identità elettronica e noi la nostra azienda municipalizzata cosa fa usa il lettore magnetico invece di quello ottico e allora lei doveva essere quello non è vero io non ce l'ho non ce l'ho io non ce l'ho perché per andare a farla ci vuole un'altra fila tale per cui mi rompo le scatole e non la vado a fare e allora quando vado in farmacia comunico il codice fiscale e va tutto bene stessa cosa dovrebbe avvenire anche nel pubblico con il codice fiscale comunicato visto che tutti quanti bene o male lo sanno a memoria dovrebbe essere questa la riduzione della burocrazia e il tempo che il cittadino perde lei dice la testa sanitaria ce l'hanno tutti potrebbe anche essere ma lei comune di Pordenone non può adesso andare a spendere ulteriori soldi perché Gea non sapeva che si poteva usare anche il lettore ottico questo è una grave inadempienza mancanza di attenzione dall'inizio perché lei adesso dovrà mettere dei soldi in più per andare a colmare una lacuna di un'amministrazione che non segue passo passo quello che promette di fare ovvero semplificazione amministrativa e allora quando io le chiedo quali sono le varie tipologie di rapporti con i cittadini in cui si può intervenire tramite l'utilizzo di strumenti della tecnologia esistente tra cui la carta di identità elettronica lei mi ha detto vedremo cosa riusciremo a fare ed ecco allora che non posso essere soddisfatto perché nel momento in cui faccio un'interrogazione per chiedere dove possiamo utilizzare la carta di identità elettronica parlo dell'ecocentro come punto di partenza mi risponde l'assessore all'ambiente non è soltanto con l'ecocentro che dovrebbe essere utilizzata questa carta di identità elettronica per la quale il cittadino confidando in quello che dice l'amministrazione ovvero che dovrebbe ridurre i tempi del rapporto nel momento in cui si rivolge il cittadino all'amministrazione spende anche 25 euro per farla perché dice boh faccio la carta di identità elettronica e può valere per qualsiasi cosa visto che c'è anche il codice fiscale e poi invece no uno arriva all'ecocentro e dice no guarda questa oggi non vale usiamo ancora la carta di identità vecchia o usiamo la tessera sanitaria che non è e quindi le 25 euro che il cittadino ha pagato che il 40% di cittadini hanno pagato praticamente non servono assolutamente a niente è scaduto il tempo grazie no è l'amministrazione è l'amministrazione che dice tu spendi 25 euro e ti vale per tutto quanto no che invece deve continuare a fare un documento per ogni rapporto con l'amministrazione bene prossima interrogazione consigliere Daniello non è arrivata pertanto passiamo alla 48 interrogazione sui costi della strada regionale 251 puntata 3 sottoscritto Francesco Ribetti consigliere del Comune di Pordenone facente parte del gruppo consigliare del Popolo della Libertà Fratelli d'Italia premesso che su organi di stampa è apparsa notizia che la Giunta avrebbe approvato il cronoprogramma dei lavori della strada regionale 251 e che il costo complessivo dell'opera si assetterebbe oltre i 7 milioni di euro con termini lavori al gennaio 2017 nel medesimo articolo è anche riportato che per i lavori di ampliamento del cimitero di Torre sarebbe prevista la realizzazione dell'opera mediante lo strumento del project financing durante il dibattito acceso per la costruzione del nuovo ospedale cittadino una delle motivazioni adottate dall'amministrazione per giustificare una tale poco coraggiosa scelta per non firmare l'accordo di programma che avrebbe consegnato alla città e dalla provincia intera il nuovo ospedale fu proprio quella di dirsi contraria a tale strumento per realizzare l'intervento tutto ciò premesso sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1 qual era il costo preventivato per l'opera all'inizio della progettazione nella sua prima versione 2 quale sia il costo definitivo totale qualsiasi onere compreso nella versione definitiva approvata o ringgiunta 3 quali siano le motivazioni di tale incremento di costi 4 quali siano le motivazioni anche tecniche per le quali sia divenuto lo studio di un nuovo tracciato e come mai non sono state previste nella prima progettazione dell'opera 5 se siano ravvisabili responsabilità anche di progettazione a carico di chi che sia ed in ipotesi affermativa quale sia il comportamento che l'amministrazione intende assumere 6 se risponde al vero che l'amministrazione ha scelto lo strumento della finanza e il progetto per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero di Torre 7 in ipotesi di risposta affermativa le motivazioni per le quali tale strumento viene ora ritenuto idono e non lo era per la costruzione dell'ospedale di Pordenone firmato Francesco Ribetti sempre lei Assessore Configone Sì grazie grazie anche al consigliere Ribetti risponderò ovviamente solo ai primi 5 punti dell'interrogazione innanzitutto però voglio ribadire anche in questa sede che il cantiere è finalmente riaperto ormai alcuni mesi fa che l'impresa a parte una breve pausa Ferragostana lo sta presidiando senza soluzione di continuità e che i lavori stanno procedendo senza intoppi nel rispetto del cronoprogramma per quel che riguarda il quesito numero 1 qual era il costo preventivato per l'opera all'inizio della progettazione nella sua prima versione il progetto la spesa complessiva prevista per realizzare il progetto esecutivo redatto dall'ingegner Zollet dello studio Zollet approvato con deliberazione della giunta comunale numero 225 del 10 agosto 2007 e aggiornato con determinazione dirigenziale numero 65 2009 del 23 aprile di quell'anno la spesa prevista era di 4 milioni 510 mila euro il costo definitivo totale qualsiasi non era compreso nella versione definitiva approvato ora in giunta allora per rispondere a questo quesito ci sono da fare queste premesse la direzione centrale ambiente ed energia ha approvato la seconda perizia supplettiva di variante dei lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la strada regionale 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna con decreto numero 1251 del 25 giugno 2015 la suddetta perizia supplettiva e di variante ha individuato opere complementari necessarie ad assicurare la completa funzionalità anche i fini viabilistici dell'intervento di sistemazione idraulica nel suo complesso tali opere complementari per le quali con decreto numero 258 2014 del 25 febbraio 2014 la protezione civile regionale ha assegnato l'ulteriore finanziamento di 1.600.000 euro sono state recepite sia con il progetto preliminare denominato opera 102 2013 sia con il progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione numero 142 2015 il 17 agosto di quest'anno l'ammontare complessivo dei costi della seconda perizia di variante è di 5.688.000 euro mentre i costi relativi e le opere complementari ammontano di 1.600.000 euro quindi il costo totale delle opere è di 7.288.000 euro quali sono le motivazioni di tal incremento dei costi e quali quelle per cui si è divenuto allo studio di un nuovo tracciato e come mai non sono state previste nella prima progettazione dell'opera premesso che la soluzione dell'originario progetto funzionale sotto il profilo idraulico prevedeva il sopralzo della sede stradale di circa 70-80 cm rispetto al piano viabile preesistente la realizzazione di due viadotti il Beccus di 100 metri e il Meduna di 200 metri che hanno la funzione di consentire il deflusso idrico in Golene impedito dall'inalzamento della livelletta stradale e la realizzazione di una botta a sifone con uno scavo di profondità di 1,50 m rispetto al piano di campagna medio al di sotto degli impalcati dei ponti per consentire il deflusso a sifone inverso solamente in seguito agli eventi alluvionali che hanno investito il territorio di Pordenone nel 2010 e nel 2012 si è potuto accertare che i livelli idrometrici raggiunti hanno investito anche l'area del cantiere realizzando un manufatto stradale pertanto si è ritenuto necessario effettuare ulteriori verifiche idrauliche finalizzate a definire le condizioni di deflusso del fiume Meduna in corrispondenza dei viadotti golenali in progetto in modo da dirimere qualsiasi dubbio sulla necessità di introdurre significative migliorie alla costruenda opera è stato interpellato il professore Elpidio Caroni dell'università di Trieste che nella relazione conclusiva relativa allo studio sulle condizioni di smaltimento delle piene del fiume Meduna e dei suoi affluenti interessanti il territorio del comune di Pordenone con particolare riferimento al tratto compreso fra la frazione di Villanova storica e il depuratore ha evidenziato la necessità di un ulteriore significativo innalzamento degli impalcati per garantire un franco di sicurezza il tracciato stradale invece non ha subito alcun cambiamento è stato autorizzato dalla direzione centrale ambiente energia e politiche per la montagna un ulteriore studio che recepisse tutte le osservazioni e gli approfondimenti emersi sia nel corso delle varie riunioni sia nella suddetta relazione idraulica del professor Caroni le proposte le proposte ipotizzate nello studio redatto dall'ingegner Paolo Gerussi recepite nella seconda perizia suppletiva di variante e consentite solo grazie alle recenti tecniche d'indagine possono essere così riassunte innalzamento della quota di sottotrave degli impalcati di 50-100 cm al di sopra della quota di piena con tempo di ritorno 25 annale quota 19-40 in modo tale da garantire il necessario franco idraulico di sicurezza e la percorribilità della strada anche in concomitanza di tale evento riduzione della luce delle campate dei viadotti da 25 a 12,50 metri mediante la realizzazione di pini intermedie a quelle già realizzate con interassi di 25 metri modifica della tipologia degli impalcati l'impalcato previsto del progetto a base d'appalto era costituito da travi prefabbricati di luce 25 metri una soletta collaborante di 25 centimetri per uno spessore complessivo di 1,60 metri quelli oggetto di perizia hanno una struttura in cemento armato precompresso posteso gettata in opera travata continua di lunghezza fino a 100 metri incastrata alla sommità delle pile dello spessore di 70 centimetri la realizzazione di una pista ciclabile senza modificare la sezione stradale l'eliminazione delle vasche a sifone sottostanti gli impalcati e quindi assenza di oneri manutentivi l'impiego di pali battuti troncoconici in alternativa ai diaframmi in cemento armato fondati su diaframmi in questo caso con questa miglioria diciamo si elimina il rischio di inquinamento della falda in quanto si evita l'impiego di fanghi bentonitici e l'esecuzione risulta più rapida con conseguente minor durata della deviazione del traffico la realizzazione di pile circolari in cemento armato di 50 e 60 centimetri 5 per ogni pile in sostituzione dei setti in cemento armato in questo caso la miglioria deriva dal fatto che la struttura in elevazione è molto più snella e meno impattante rispetto al paesaggio circostante e consente una divagazione più fluente del flusso idraulico durante le fasi di esondazione del fiume Meduna infine la realizzazione di un viadotto intermedio di lunghezza di metri 75 in questo caso con l'obiettivo di migliorare il deflusso idraulico di diminuire le spese di pulizia di manutenzione dell'alvio e di ridurre l'impatto ai fini paesaggistici i benefici derivanti da queste migliorie apportate con la seconda perizia di variante e con la conseguente opera di completamento sono la percorribilità della strada regionale numero 251 anche in concomitanza di un evento di piena come quello del 2010 corrispondente ad un tempo di ritorno di 25 anni accompagnato da una maggiore durabilità dei viadotti golenali il deflusso a pelo libero e non in pressione e il collegamento ciclabile tra la viabilità di Pordenone e quella di Azzano Decimo per quel che riguarda la sicurezza stradale è evidente che la proposta di variante garantisce un deciso miglioramento delle condizioni di transitabilità rispetto a quelle previste dal progetto sia perché riduce drasticamente la necessità di interdire il traffico in occasione di eventi di piena sia perché mette in sicurezza il corpo stradale stesso rispetto alla possibilità di essere scavalcato e quindi eroso danneggiato dalle acque durante gli eventi di piena inoltre un ulteriore elemento fondamentale la soluzione prevede anche l'utilizzo di tutte le opere realizzate fin d'ora dall'impresa appaltatrice e un significativo risparmio relativo ai costi di manutenzione e gestione della strada e dei manufatti stradali rispetto al quesito numero 5 si fa presente che il progetto originario dotato di vasche a sifone ha ottenuto i pareri favorevoli di più direzioni regionali che non hanno ravvisato alcun errore progettuale con l'approvazione della perizia supplettiva di variante numero 2 preceduta dalla rinuncia alle riserve e quansivoglia pretesa da parte del lati nei confronti dell'amministrazione non sussiste alcun danno per l'amministrazione stessa si sottolinea infine che il progetto originario è stato modificato e integrato per le motivazioni precedentemente evidenziate mantenendo i prezzi originali fino al quinto d'obbligo e applicando nuovi prezzi di mercato alle opere complementari una soluzione che riteniamo sia riuscita a farci uscire dallo stallo che è stato fortemente criticato e che ha indubbiamente imbarazzato questa amministrazione con una soluzione positiva per la comunità perché l'opera per quanto i costi siano aumentati è indubbiamente migliorata sia sotto il profilo della funzionalità idraulica che è anche sotto il profilo della sicurezza stradale grazie grazie consigliere un piccone prego se rispondo adesso l'assessore Moro prego prego assessore sì allora rispetto ai due quesiti finali faccio presente effettivamente è arrivata una proposta di progetto di finanza per l'imlampiamento del cimitero di Torre e questa giunta ha espresso interesse alla proposta adesso l'itere è ancora in corso rispetto alle motivazioni per cui non si è ritenuto idoneo e non lo era per la costruzione dell'ospedale di Pordenone premetto che non era un'opera ovviamente di competenza di questa amministrazione comunale pertanto le modalità di finanziamento non attinevano alla nostra competenza vorrei anche distinguere le due opere sono leggermente diverse anche in termini proprio di tipologia di partecipazione da parte dell'amministrazione nel caso del cimitero di Torre non è previsto alcun intervento economico da parte dell'amministrazione comunale e nel contempo questa operazione libererebbe risorse dal patto di stabilità grazie prego consigliere può dichiarare se si ritiene soddisfatto grazie grazie presidente assolutamente insoddisfatto vede il sindaco che ha fatto meglio dei suoi assessori assolutamente insoddisfatto beh per quanto riguarda l'assessore Conficoni perché la ritengo veramente una storia infinita ma da terzo mondo e dire poco cioè ci lamentiamo tanto in Italia mi sembra già qualche tempo fa se si ricorda l'avevo ho monitorato lo stato d'avanzamento di quest'opera sono arrivati alla terza puntata mi auguro che sia l'ultima però non lo so perché veramente ritengo un'indecenza che in una città in una provincia come la nostra in una città capoluogo venga gestita in questa maniera la questione della strada io mi sono sono andato anche abbastanza nel dettaglio per chiedere e ho chiesto anche quali sono perché sono convinto che non ci possa non essere un errore da parte di qualcuno di chi che sia soprattutto un errore da parte di questa amministrazione perché lasciare una strada come è stata lasciata quella una strada tanto importante è qualcosa veramente di scandaloso io avevo chiesto le dimissioni ma era e lo ribadisco era in tono abbastanza non cioè non era in tono provocatorio ma perché sono convinto che un'amministrazione che non riesca mi dispiace che sia lei il referente però un'amministrazione che non riesce non riesce in nessuna maniera capa scuse sbaglia progetti non si accorge di errori vanno a spendere una barca di soldi per poi venire a dire che non si sono accorti che la strada è risondabile devono rifare il progetto siamo a distanza di anni a vedere la strada chiusa a condizione di una pericolosità estrema quando è un'arteria di un'importanza unica perché da quella parte transitano tutti quelli che vengono a Pordenone e io ogni volta che passo di là dico la verità arrabbio volevo usare un altro termine dico mi arrabbio in maniera pesante non si può lasciare una strada in queste condizioni e lavarsene le mani e vi inizio a dire che tutto va bene non avete sbagliato niente ci sono progetti ci sono soldi buttati e voi non dite niente dite io prendo la risposta del sessore Conficoni che mi dice non ci sono danni perché due uffici regionali ci hanno detto che il progetto andava bene allora se andava bene il progetto perché l'avete rifatto perché avete perso tempo non l'avete fatto prima quando dico che siete un'amministrazione spocchiosa dico questo neanche il coraggio di dire signori in tanti anni non era mai arrivato un'esondazione così tanto adesso è successo per fortuna che è successo prima che abbiamo dato l'avvio ai lavori così facciamo un passo indietro e lo capiamo è successo questo assessore è successo questo se è successo questo ditelo che avete progettato male avete programmato male avete speso male le soldi pubblici anche se su delega di chi che sia però non vedi a dire che tutto va bene però abbiamo quattro anni di ritardo non si sa perché perché lei capisce lei capisce che i pordenonesi i residenti ad Azzano in quelle zone là che vengono a Pordenone perché devono fruire dei servizi vengono a lavorare vengono in ospedale vengono non possono capire il perché di tanto tempo il perché di tanto ritardo lei non mi ha ancora dato una spiegazione di chi è la colpa assessore è normale è normale che una strada sia ridotta così però sentendo le sue risposte non è colpa di nessuno perché voi avete fatto tutto benissimo avete dato incarichi brevissimi siete stati i più bravi del mondo la regione ha vallato tutti i progetti però la strada è così c'è un colpevole uno assessore sono tutti i colpevole sono tutti quelle imprese la nostra amministrazione nostra perché purtroppo ci amministrate ancora per poco però purtroppo è perfetta precisa non sbaglia niente io non posso credere che sia così l'assessore avrei preferito sentire da lei almeno in una delle tre mie interrogazioni un mea colpa un è colpa di qualcuno non può ma lei non può lavarsi mai dicendo che non è colpa il suo assessore è lei l'assessore ma lei è convinto di aver lavorato bene su sta cosa cioè lei la sera quando va a casa si guarda lo specchio sulla strada che porta ad Azzano dice sono stato il più bravo assessore del mondo cioè io non lo so io mi vergognerei le dico verità io mi vergognerei da Pordenonese mi vergogno quindi se mi chiede sono soddisfatto risposta nei suoi confronti personalmente non so niente come ha gestito sta cosa è da vergognarsi se vuole il mio parere conterà poco però è così come l'assessore Moro e vado a rispondere anche a lui che mi ha risposto non ha colto assessore sono d'accordo anch'io che sono due cose diverse un ospedale da dei servizi cimiteriali ma voi avete mandato al cimitero la sanità a Pordenonese avete fatto qualcosa di osceno con l'ospedale però e vi siete trincerati dietro il project financing qualcosa che era uno strumento aberrante uno strumento che non si poteva usare uno strumento che porta distorsioni l'avete detto l'avete venduta così per non prendervi la responsabilità politica di bocciare la questione ospedale in comina e adesso ci proponete project financing allora io chiedo coerenza all'amministrazione se il project financing è uno strumento che funziona lo usate se è uno strumento che non funziona come ce l'avete venduta non funziona per niente allora non lo utilizzate e le risorse non le andate a liberare con quello strumento ne trovate altri perché se vi faceva comodo in campagna elettorale dire che il project financing era il peggiore dei mali vi deve far comodo sempre non è che potete prendere in giro i cittadini quando vi fa comodo in un modo ed è la stessa cosa che ha fatto il PD a Udine a Pordenone vi dice che il project financing non va bene a Udine si fa l'ospedale in project financing questo è quello che ha fatto questa amministrazione quindi assolutamente insoddisfatto con le risposte come è finita la sanità a Pordenone grazie al PD va bene grazie consigliere bene le tre interrogazioni le abbiamo usurite pertanto adesso passiamo all'esame della deliberazione proposta numero 34 piano comunale di classificazione acustica PCCA adozione dei sensi dell'articolo 23 della legge regionale numero 16 del 18 giugno 2007 norme in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico do la parola all'assessore Conficoni prego sì mentre l'architetto Brazzafogli e l'ingegner Tommasi che assieme alla dottoressa Uge l'hanno concorso ad elaborare questa proposta di piano una breve introduzione da parte mia per evidenziare che finalmente dopo il piano regolatore e il piano della mobilità sostenibile anche il piano di classificazione acustica approda in quest'aula consigliare è un tassello fondamentale che conferma l'impegno della nostra amministrazione a progettare la città del futuro la normativa vigente attribuisce assegna agli enti locali importante competenze in materia di controllo e di contenimento dell'inquinamento acustico in base alle quali il comune di Pordenone è tenuto ad approvare il piano di zonizzazione acustica piano che è stato elaborato sulla base del dettato normativo e dei criteri e delle linee guida stabilite dalla regione Friuli Venezia Giulia l'approvazione di questo piano però ed è questo che ci preme come prima cosa sottolineare non deve essere considerato un vincolo per quanto appunto obbligatorio per legge ma un'opportunità per la nostra comunità perché ci obbliga in particolare quando andiamo a pianificare l'utilizzo del nostro territorio a confrontarci con l'impatto acustico delle scelte che andiamo a fare e questo è un valore aggiunto importante perché l'inquinamento acustico è comunque rilevante nel determinare il benessere che è un qualcosa che ne abbiamo avuto prova anche nel recente passato è un elemento un fattore alla quale la nostra comunità i nostri concittadini prestano comunque un'importante attenzione perché può essere compromesso dai livelli eccessivi di rumore il piano di zionizzazione acustica si propone in qualche modo di conciliare quelle che sono le caratteristiche degli insediamenti antropici con la tutela della salute e l'uso sostenibile del territorio e concorre sotto questo profilo a migliorare quindi la qualità della vita in particolare riducendo quelle che sono le occasioni di conflitto e lo fa sia puntando sulla prevenzione sia attraverso l'individuazione e la conseguente soluzione di quelli che sono i problemi aperti sul territorio sempre sotto il profilo ovviamente delle emissioni inquinanti di rumore il percorso che ha portato alla definizione di questo piano è stato caratterizzato da diverse fasi fasi che hanno consentito di rendere via via più nitida la fotografia del clima acustico del nostro territorio che sono state caratterizzate come potranno confermarvi anche i professionisti che hanno elaborato il piano da scelte prevalentemente tecniche in alcuni casi ci sono state anche delle scelte politiche e quindi mi sembra giusto focalizzare all'inizio del mio intervento l'attenzione su queste ultime in particolare una delle scelte politiche più importanti degli indirizzi che abbiamo trasmesso i professionisti è stato quello di cercare di salvaguardare dall'inquinamento acustico gli ambiti ad elevato pregio naturalistico che non risultano già compromessi tant'è che alla fine ben il 10% del territorio comunale risulta classificato in classe prima che è quella con i limiti acustici da rispettare più bassi invece il 25% del territorio risulta classificato in classe quarta perché è caratterizzato da un'elevate attività antropica ed in questa porzione di territorio risiede ben l'80% della popolazione un'altra scelta frutto di valutazione politica sono stati anche i siti che abbiamo individuato vocati ad ospitare gli spettacoli e le manifestazioni all'aperto che sono una trentina in questo caso abbiamo inteso confermare quelli che sono gli ambiti tradizionalmente impiegati per lo svolgimento di manifestazioni sia nell'area più centrale della città che nei parchi che anche nei quartieri però abbiamo anche previsto dei nuovi siti che riteniamo siano idoni ad ospitare degli eventi e eventi che li possono anche valorizzare cito in particolare Villa Cattaneo e il villaggio del Fanciullo l'uso di queste aree andrà regolamentato sotto diversi aspetti in modo tale da poter conciliare le esigenze di una città viva ed attrattiva con quelle della tranquillità dei residenti tema su cui questo consiglio comunale si è già trovato a dibattere non più tardi di qualche mese fa c'è un'ultima cosa importante da sottolineare prima di cedere la parola per l'illustrazione delle slide e cioè il fatto che l'elaborazione contestuale del piano di zonorizzazione acustica con il piano regolatore e il piano della mobilità ha portato un valore aggiunto perché l'integrazione di questi strumenti non ha permesso solo di rendere coerenti gli obiettivi ed i contenuti ma ha anche consentito sin da subito di introdurre delle migliorie in realtà l'obiettivo la finalità del piano di zonorizzazione acustica attraverso la classificazione in zona omogenea del territorio è quello di far emergere quelli che sono i siti da proteggere perché non ancora inquinati e quelli da risanare noi in realtà grazie alla contestuale elaborazione del piano di zonorizzazione acustica con il piano regolatore e il piano della mobilità grazie alla contaminazione che c'è stata tra questi diversi strumenti siamo andati già in questa fase ad individuare delle soluzioni migliorative che lo vedrete si sono tradotte in una ricollocazione nel territorio comunale di alcuni servizi nel cambiamento della destinazione ad uso di alcune porzioni del territorio che avete approvato con l'adozione del piano regolatore e anche nell'alleggerimento del traffico e nell'introduzione di zone 30 in alcuni siti considerati sensibili ecco questi sono credo gli elementi più importanti diciamo da sottolineare di indirizzo politico nell'elaborazione di questo che hanno caratterizzato l'elaborazione di questo piano buonasera velocissimamente allora l'amministrazione comunale ha tra gli obiettivi strategici la redazione del piano comunale di classificazione acustica ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico che è la 447 del 95 la legge regionale 16 del 2007 e le linee guida di cui parlava l'assessore qual è l'obiettivo del piano il piano suddivide il territorio comunale in zona omogenee dal punto di vista della classe acustica e la classe acustica del territorio è ottenuta tramite la definizione del PCCA mira ad ottenere una condizione acustica conciliabili con le caratteristiche degli insediamenti antropici presenti nel rispetto della salute umana dell'ambiente e dell'utilizzo sostenibile del territorio nello specifico l'attuazione del PCCA ha come obiettivo la protezione e prevenzione delle zone non ancora acusticamente inquinate e il risanamento delle situazioni di incompatibilità acustica salvaguardando il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustica sia nell'ambiente esterno che in quelli abitativi in questa slide sono precisate quali sono le classi così come disciplinate dalla norma e in questa successiva slide per ogni specifica classe ci sono i limiti assoluti di immissione sia nel periodo diurno che nel periodo notturno in questa slide sono rappresentati i piani che sono stati soggetti a parere da parte dell'ARPA agenzia regionale per la protezione dell'ambiente con i pareri espressi positivamente tra cui Pordenone e Udine i piani adottati che sono in verdino medio e in verdino scuro i piani approvati a seguito della gara in questo slide è stato fidato l'incarico della redazione del PCCA e del POMS al raggruppamento temporaneo costituito dalla società Sintagma SRL che ha redatto il POMS e dalla società Tommasi Tommasi che ha redatto il piano di zonizzazione acustica per il piano di zonizzazione acustica bisogna avere dei specifici requisiti previsti dalla norma la redazione del PCCA come da incarico prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività la raccolta dei dati e degli elementi di partenza la caratterizzazione dello stato di fatto del territorio la definizione della zonizzazione parametrica i sopralluoghi il monitoraggio acustico e il database correlato la definizione della zonizzazione aggregata la stesura della zonizzazione integrata con armonizzazione della zonizzazione aggregata con i comuni con termini individuazione quindi delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo e relativo regolamento la stesura della zonizzazione definitiva alla redazione della valutazione ambientale strategica come vi diceva poco fa l'assessore il percorso è stato condiviso il percorso del PCCA è stato condiviso col PRG e il POMS questo di fatto ha avuto una serie di benefici che li vedremo nel corso delle slide l'iter di adozione e approvazione del piano disciplinato dalla regionale 16 del 2007 ed ha una procedura analogo a una variante urbanistica cioè stasera viene adottato poi viene messo in pubblicazione il comune si dovrà esprimere sulle osservazioni e opposizioni presentate sentirà l'ARPA nuovamente e poi sarà sottoposto all'esame delle commissioni e del consiglio comunale è stata altresì fatta anche la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS e i pareri resi hanno evidenziato che il piano possa non generare impatti ambientali significativi e quindi il piano stesso non viene assoggettato alla procedura di VAS abbiamo acquisito i pareri preliminari all'adozione ovvero sono stati il piano è stato sottoposto a un ulteriore parere di ARPA che è un parere obbligatorio e preventivo ai sensi dell'articolo 23 ed è stato reso con parere favorevole non sono stati riscontrate criticità con i piani di zonizzazione acustica dei comuni con termini né con gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni con termini dove appunto non sono presenti i PCCA sono stati espressi i pareri da parte delle circoscrizioni e la commissione consigliare ha esaminato il piano in due date il 15 e il 22 di ottobre gli elaborati di piano allora la prima il primo elemento che abbiamo dovuto affrontare è stata la definizione dell'unità territoriale la base cartografica sulla quale si sviluppa il PCCA è composta da un insieme contiguo delle unità territoriali che vanno a ricoprire interamente senza sovrapposizione tutto il territorio comunale d'eccezione delle sedi stradali le unità territoriali sono dei poligoni chiusi caratterizzati da una destinazione urbanistica unica la cui superficie è delimitata da infrastrutture di trasporto lineare ovvero da discontinuità di tipo geomorfologico nel caso del territorio rurale agricolo concorre alla perimetrazione anche altri elementi di discontinuità come le strade interpoderali vicinali nonché fossati canali in rigui nel territorio di Pordenone sono state individuate circa 2400 unità qui si vede male questa è comunque la tavola una del territorio e subito dopo quella delle unità territoriali qui vi ho messo un particolare così per vedere la parte diciamo centrale qui capite che le unità territoriali 2400 è veramente un numero elevato allora zonizzazione parametrica una prima classificazione acustica chiamata zonizzazione parametrica è stata implementata associando a ciascuna di queste unità territoriali una certa classe acustica sulla base della caratterizzazione urbanistica dell'area fornita dagli strumenti regolatori in particolare il PRG la classificazione stradale eccetera è sulla base di alcuni dati oggettivi riguardanti le attività la popolazione e i servizi esistenti i dati utilizzati sono stati seguenti il piano regolatore comunale in vigore quindi prima dell'adozione della variante generale l'elenco di abitanti per civico georiferiti e numero civici georiferiti l'elenco delle imprese registrate dalla camera di commercio ed elenco delle attività registrate infinitare le basi catastali digitali georiferite riproiettate secondo il sistema la localizzazione georiferita delle scuole degli ospedali delle case di riposo la cartografia e la classificazione stradale la mappatura acustica effettuata dai proprietari delle infrastrutture cioè autovia veneta e ferrovie e le aree protette ricavate dagli strati cioè dai dati che provengono dalla regione la modalità la modalità di elaborazione quindi l'elaborazione di questi dati ha portato alla zonizzazione parametrica che è descritta in questa tavola questo in particolare è sempre del centro storico in questa prima ripartizione noi vediamo che la gran parte del territorio ricade in classe seconda il 45,73 mentre la percentuale di popolazione che ricade nella zonizzazione parametrica è in classe quarta cioè l'84,52 e sostanzialmente questo è il nucleo cittadino è quello di maggior densità abitativa quindi ha un minore terreno ma una maggiore popolazione mentre le aree agricole sono quelle di estensione più rilevante la zonizzazione aggregata questo è il secondo passaggio la classificazione ottenuta è stata in seguito modificata andando ad individuare i ricettori sensibili la presenza di attività particolarmente rumorose come quelle industriali o dovute alle infrastrutture di trasporto quello che si ottiene è una zonizzazione aggregata in quanto l'obiettivo è quello di semplificare la distribuzione delle classi acustiche aggregandole fra loro sulla base di un certo numero di criteri previsti dalle linee guida per le classi prima e le classi quarta quinta e seste ogni cambiamento di classe deve essere adeguatamente motivato e deve seguire strettamente il workflow disponibile negli allegati B e C delle linee guida per le classi seconda terza e quarta invece ogni cambiamento deve ricadere all'interno di uno dei seguenti criteri la variazione di classe dovuta alle dimensioni al contesto contiguo le variazioni di classe dovuta alla previsione dello strumento urbanistico di pianificazione comunale o sovracomunale le reali condizioni acustiche dell'area le zone cuscinetto il declassamento delle aree agricole questo è un esempio di applicazione dei criteri di aggregazione per ogni unità territoriale qui in questo slide sono evidenziate alcune aree che hanno appunto avuto il cambio di classe con la specifica individuazione e la motivazione che cosa abbiamo effettuato abbiamo effettuato anche il monitoraggio acustico e la zonizzazione parametrica può dare riscontro ad unità territoriale che non corrispondono alle reali condizioni acustiche dell'area a seguito dei rilievi fonometrici puntuali indocumentati è stato possibile effettuare la variazione di classe per uniformità con le aree dicenti e con il reale clima acustico caratterizzante l'area la sostenibilità di questa semplificazione è stata verificata da rilievi fonometrici sopra luoghi sul campo circa 160 documentati da apposite schede uno degli elaborati uno degli elaborati di piano è l'annesso C è un annesso alla relazione tecnica e qui sono riportate sostanzialmente per sintesi le schede delle misure che magari faccio spiegare all'ingegner Tommasi Buonasera sono Tommasi brevemente provo a spiegare questa monografia di una misura una monografia tipica quindi vuol dire che per ogni punto di misura sono state fatte un certo numero e sequenze di attività che hanno portato alla caratterizzazione acustica a una prima caratterizzazione acustica della singola area in una scheda di tipo queste che sono quelle che avete anche ricevuto è dato un primo inquadramento territoriale a macroscala quindi vediamo sul territorio di Pordenone l'area all'interno della quale viene effettuata la misura con una specifica più diciamo uno zoom sul quartiere per inquadrare all'interno del reticolo stradale locale dove è stata posizionata la centralina e una foto del posizionamento piuttosto che dell'area interessata per misura cosa si intende si intende un processo che utilizzando uno strumento che è un fonometro quindi un strumento che serve a valutare numericamente la pressione sonora in quel punto specifico viene caratterizzata sia il panorama acustico locale sia eventuali presenze di disturbi che possono essere legati al traffico piuttosto che alle attività industriali piuttosto che ad altre attività tipicamente di natura antropica sul grafico quello in basso a sinistra con le curve verdi con le linee verdi viene riportato l'andamento temporale quindi in orizzontale vediamo il tempo che scorre possiamo immaginare il tempo che scorre e in verticale la linea segue il livello di rumore quindi proprio come penso ci si possa immaginare la figura quella a barre blu sulla destra rappresenta quello che si chiama lo spettro acustico ovvero la distribuzione all'interno del periodo di misura rispetto alle frequenze quindi a sinistra ci sono le frequenze più basse fino ad arrivare le frequenze più alte che sono quelle sulla destra l'ultimo valore la colonna blu più alta non rappresenta la frequenza più alta in questo caso ma la media di tutte le frequenze la media di tutte le frequenze per mediata sul periodo di misura è anche detto livello equivalente perché equivale alla media energetica se vogliamo del rumore misurato in quell'area per la durata della misura e si esprime come valore la eq dove eq appunto è equivalente in questa scheda il livello equivalente è di 64,7 decibel A vuol dire che utilizza una ponderazione quindi diciamo una equalizzazione simile a quella che l'orecchio umano percepisce quindi è un tipo di misura fatto per legge ma appositamente per simulare l'impressione che un orecchio di una persona umana cioè di un umano recepisce in quel punto è interessante notare un'altra cosa che trattandosi di misure in ambito urbano e quindi prossime ha una o più arterie di scorrimento stradale un altro parametro che viene richiesto e che viene sempre presentato è il 95esimo percentile che è l'ultimo in basso a destra scritto P95 che in questo caso assomma a 52,9 decibel che cos'è questo valore? è detto in maniera molto sintetica il rumore di fondo che ci sarebbe se non ci fossero i rumori transitori quindi in particolare i rumori dovuti alle strade alle strade e alle vetture in questo caso vediamo che la differenza tra il rumore reale che c'è in quel punto che sono i 64,7 decibel e il rumore che ci sarebbe senza le vetture è di circa 12 decibel quindi da 65 e passiamo a 53 12 decibel in termini acustici sono un'enormità perché comunque il decibel è una scala logaritmica si chiama perché si differenzia un po' da quelle che siamo abituati ad usare comunemente abbiamo un litro più un litro fanno due litri ci sono tutti un decibel più un decibel purtroppo non fanno due decibel che rende un po' più complicato calcolare e anche spiegare queste cose ma c'è una appunto c'è una scala logaritmica questo perché non è per infastidire semplicemente ma questo rispecchia il comportamento dell'orecchio umano perché l'orecchio umano è in grado di percepire i rumori estremamente flebili fino a rumori che rasentano la soglia del dolore quindi parliamo dai 20 decibel che è il cosiddetto fruscio delle foglie quella soglia che si sente o non si sente fino ai 130 140 decibel l'ordine di grandezza tra il rumore più flebile e quello più corposo non è di 110 volte ma è di vari miliardi di volte è la stessa cosa che abbiamo con la luce anche con la luce possiamo vedere una candela a 50 metri come possiamo guardare il sole che è miliardi di volte più luminoso quindi questo è il motivo per il quale si utilizza la scala del decibel piuttosto che i metri o misure lineari o unità lineari detto questo sulla ecco questo è un ingrandimento grazie sulle monografie vengono riportate le singole unità ci sono dei commenti che danno anche una percezione di quelle che sono eventualmente i fenomeni non tipici di quell'area e che vengono presi ed estratti quindi ad esempio se in quell'area lì c'era un camion che mi è stato col motore acceso per un quarto d'ora davanti al fonometro ovviamente quel valore lì deve essere tolto perché il camion non è sempre lì però se c'è rumore stradale sono in grado di discernere qual è la componente quindi il contributo della strada ma devo renderlo presente naturalmente se sono domande poi posso rispondere in forma un po' più elaborata nella slide successiva vediamo troverete nella documentazione anche dove sono stati fatti i punti di misura e quali sono gli esiti quindi sono stati eseguiti rilevi fonometrici 69 rilevi presso scuole di ogni ordine grado 16 presso ospedale case di cure strutture assistenziali 42 in prossimità di zone industriali 26 in altri siti del territorio in altri casi per 11 è stato sufficiente sopra luogo senza l'esecuzione delle misure il piano in realtà ha preso in esame anche la questione delle aree verdi e i parchi e ha fatto un'analisi specifica relativa alle singole vocazioni delle aree ed è stata creata una griglia questo è un valore aggiunto che è stato condiviso e contaminato attraverso quanto scelto e quanto deciso e quanto studiato col piano regolatore e quindi in questa fase si è deciso di valorizzare sia le fasce pluviali sia urbane che extraurbane qui vedete in sintesi qual è l'analisi che è stata fatta e successivamente abbiamo fatto anche un approfondimento sulle aree di archeologia industriale aree di archeologia industriale che sono comunque connesse alle aree verdi e quindi alle vocazioni di quelle aree questa è la tavola di sintesi della zonizzazione aggregata quindi da tutte le analisi effettuate questa è la tavola finale in questo slide vedete le due tavole tra la zonizzazione parametrica e la zonizzazione aggregata vedete che nella zonizzazione parametrica il territorio è molto frastagliato mentre nella zonizzazione aggregata i colori per così dire l'omogeneità delle zone è molto più evidenti il passo successivo è stato quello di integrare i risultati della zonizzazione parametrica della zonizzazione aggregata con le fasce di rispetto delle zone sensibili delle zone industriali delle infrastrutture di trasporto e con le zone adibite ad attività di spettacolo senza dimenticare di verificare la compatibilità con i comuni limitrofi la classificazione così prodotta prende quindi il nome di zonizzazione integrata qui in questa tavola ci sono le infrastrutture qui la vedete vedete un dettaglio e qui c'è una tabella con la precisazione di quali sono le tipologie delle strade quali è l'ampiezza della fascia di pertinenza acustica e quali sono i limiti da osservare la tavola subito dopo è quella delle fasce industriali come vedete le zone industriali sono sostanzialmente tre la zona nord la zona verso il ponte della meduna Savio e poi la zona sud a valle noncello in questa tavola sono sostanzialmente rappresentate e vedete le fasce che hanno di colore rosso e di colore giallo scura che sono le fasce di decremento allora le zone produttive di piccole dimensioni la decisione di riconoscere la gran parte delle zone produttive di piccole dimensioni alcune delle quali vicino a ricettori sensibili o di aree abitate come sparse e quindi strategiche per il territorio ha permesso di ridurre il numero di criticità legate al rumore industriale restano quindi solo le tre grandi zone a destinazione industriale in posizione distante nel nucleo urbano principale anche questo è un valore aggiunto di condivisione di contaminazione dei piani e del progetto di piano regolatore quindi le previsioni del nuovo piano regolatore e i successivi cambi di destinazione d'uso appunto operate con la variante di piano e qui vedete sostanzialmente quali sono le zone e quali sono quelle sparse e quelle forti e qui c'è una tabella che sostanzialmente le sintetizza parliamo poi delle fasce cuscinetto delle aree sensibili dunque le scuole si è cercato quindi di valorizzare e preservare quanto più possibili i siti sensibili e le aree di quiete creando dei buffer o dei cuscinetti di classe secondo intermedia tra queste aree le zone limitrofe qui parliamo sostanzialmente quasi sempre di scuole nella maggior parte con le zone residenziali che hanno una classe decisamente più alta in questa slide sono rappresentate le aree di spettacolo temporaneo come vi diceva prima l'assessore sono sostanzialmente riconosciute tutte le aree che già oggi vengono utilizzate per questi scopi in più ne sono state riconosciute alcune di nuove in questa tabella è un esempio di regolamentazione che sarà successivamente affrontato in sede di approvazione con il regolamento con la descrizione della manifestazione il numero massimo di giorni questa non è una tabella solo come esempio la frequenza l'orario limite il numero di massimi di giorni all'anno per sito la compatibilità acustica con i comuni con termini dunque rispetto a questo Porcia, Roveredo e San Quirino sono dotati di piano di zonizzazione acustica il piano di fiume Veneto ha recentemente adottato il piano quando abbiamo fatto le slide era ancora non in adozione però aveva avuto il parere di ARPA mentre gli altri comuni Cordenon, Zoppo Laziano X e Pasiano di Pordenone ancora non si sono adottati di questo strumento ma noi abbiamo comunque fatto la valutazione rispetto agli strumenti urbanistici e lo stato di fatto posso andare avanti allora come si determina c'è un'influenza concreta tra i comuni che sconfinano e le zone urbanistiche e le zone industriali limitrofe e in questa tavola è riportato l'esempio di Porcia zonizzazione integrata questa è la tavola conclusiva in relazione ai siti sensibili e alla predisposizione della zonizzazione definitiva sono state attuate delle scelte condivise col percorso di progetto del PRG che hanno portato a minimizzare alcune potenziali criticità rilevate dalla costruzione del PCCA relativo al PRG vigente partendo infatti dai siti sensibili evidenziati sono stati considerati i siti di previsione del PRG vigente non ancora attuati per valutare se potesse essere ancora attuali o meno o nel caso lo fossero potessero essere ricollocate in particolare le situazioni emerse per le quali si è trovata una soluzione a riguardo le possiamo vedere da queste due tavole qui questo esempio è la scuola materna di previsione di Torre Nord nella tavola di sinistra appunto prevediamo vedete questa situazione e nella versione successiva non la vedete più perché il piano disciplina l'area in maniera diversa lo stesso dicasi per l'area di Borgo Meduna qui abbiamo l'area della Savio vicino era previsto una scuola per l'infanzia individuata nella previsione nell'analisi fatta per il piano regolatore questa necessità non c'è più e per cui è stata eliminata da questa zona questo avrebbe creato un problema perché avremmo avuto due zone una zona di prima classe e una zona di quinta classe in contrasto altre situazioni esaminate rispetto ai siti sensibili sono state valutate e sono state poi risolte una volta da ricepite in maniera definitiva la zonizzazione integrata si può parlare di zonizzazione definitiva a seguito della zonizzazione definitiva le ripartizioni in termini percentuali della superficie territoriale comunale degli abitanti rispetto alle classi sono le seguenti qui sono riportate le tavole definitive e qui è la ripartizione per classi quindi in classe prima tra la zonizzazione parametrica in cui avevamo il 3,12% del territorio passiamo al 13,96 quindi è un grande aumento e quindi una parte del territorio viene maggiormente preservato in classe seconda l'1,15% della popolazione passa a 6,64% abbassando ovviamente la percentuale del territorio in terza dal 13 al 14 in classe quarta dall'84% si passa al 77% perché aumentando le classi prima vengono maggiormente riservate porzioni del territorio infatti risulta evidente che l'occupazione reale della classe prima è aumentata dal 10% e questo dato rispecchia la volontà dell'amministrazione comunale di salvaguardare le aree verdi naturali del proprio territorio così come vediamo che le zone cuscinetto incrementano o decrementano le aree in percentuale di territorio allora le criticità potenziali le criticità potenziali sono date dal contatto tra le unità territoriale con salto di classe maggiore a 5 decibel in questo caso noi abbiamo una divisione di questa tipologia per la tipo A si tratta appunto di scuole poste in classe prima perché silenzio appunto a requisito essenziale ci sono 35 criticità potenziali il B per le strutture sanitarie qui potremmo avere 5 criticità potenziali 2 in zone naturalistico ambientali di pregio 5 in zone naturalistico ambientali di pregio perché classificata in classe prima ma quindi hanno una classe superiore rispetto ai 10 decibel 5 di parchi urbani attrezzati e 6 diciamo che si tratta di incompatibilità dovuta dal contatto tra una zona ad alta attività antropica di classe quarta e una zona di tipo rurale naturalistica cioè quelle zone che sono in realtà vicine ai fiumi allora questi sono delle tipologie di criticità le vedete sulla cartografia e sulla tavola numero 9 sono rappresentate le criticità reali invece sono queste sono 82 51 sono in classe prima 11 in classe seconda 10 in classe terza e 10 in classe quarta l'annesso di esamina esattamente tutti questi tipi di problemi e qui sono state riportate quali sono stati gli esiti delle misure sui siti scolastici e quali sono gli esiti allora una chiusura diciamo che ci sono due cose da dire anche il PCCA e il PUMUS hanno avuto un percorso condiviso e anche questo in qualche maniera ha determinato l'esame di alcune questioni se voi vedete l'annesso di le analisi fonometriche sostanzialmente sono evidenziate gran parte delle criticità evidenziate dovute al traffico la situazione esaminata dal PUMUS è esattamente quella di lungo termine che ha esaminato la matrice attuale dell'ora di punta sui veicoli equivalenti ora con quella di progetto di fatto ha determinato poi le zone 30 questa individuazione di fatto andrà a risolvere gran parte dei problemi di criticità non tutte ma la gran parte e qui in realtà in questa tabella andremo a vedere quali sono le situazioni che andranno in miglioramento con la realizzazione delle zone 30 allora successivamente a questo che cosa dovrà fare il comune la norma in realtà prevede che entro 12 mesi dall'approvazione del piano di zonizzazione acustica l'amministrazione si dovrà adottare di un piano comunale di risanamento acustico il piano di risanamento acustico la stessa procedura del piano di zonizzazione acustica cioè adozione approvazione in mezzo alle osservazioni nei sei mesi le aziende dovranno presentare il proprio piano e il comune nel redigere il proprio piano dovrà tenerne conto la verifica di assoggettabilità ve l'ho già detta e anche questo direi che è finita Nicola sì l'illustrazione si è conclusa se ci sono delle domande prima di passare al dibattito siamo qui per soddisfare le vostre curiosità conclusa la presentazione chiedo se ci sono domande e chiarimenti tra iscrivetevi a parlare non iscrivetevi per l'intervento in discussione consigliere Sperotto domande e chiarimenti prego sì chiedo alla sottore Conficoni o ai tecnici che sono intervenuti vorrei capire meglio alcune cose cioè vorrei capire ad esempio ci sono delle situazioni indubbiamente in cui ci sono delle criticità nella nostra città e vorrei capire come si è proceduto no e come sono state individuate queste zone cioè in che qual è stata la zonizzazione e come sono state classificate perché mi faccio riferimento a due aree molto specifiche una è dove passa la ponte Bana vicino alle oggette Tomadini dove lì abbiamo e dove passa sopra al parco del seminario per cui noi abbiamo un'arteria stradale con un passaggio notevole e un traffico notevole che passa sopra un'area naturale sopra il piume noncello quindi con e vicino anche a delle abitazioni quindi voglio capire come si è proceduto in quella zona per capire meglio perché sinceramente ho delle difficoltà a comprendere come si è proceduto in queste situazioni in cui delle aree così diverse vengono a contatto ho capito molto bene nelle esigenze scolastiche che si è proceduto appunto con una relazione diretta con il piano regolatore a prevedere già da ora degli spostamenti visto che lì c'erano delle aree dove c'erano di criticità che erano contigue confinavano una con l'altra quindi chiedo uno specifico chiarimento per quell'area come si è proceduto e quali possono essere anche possibili soluzioni che però come ci è stato spiegato avverranno solo col piano di riservamento acustico che sarà appunto un lavoro successivo e propongo lo stesso quesito per l'area di Villanova Vecchia lì abbiamo l'autostrada che passa vicino alle case su un'area agricola e su un'area naturale perché lì appunto c'è il fiume Meduna voglio capire anche in quel caso come si è proceduto cioè in quali aree ricade come si è proceduto alla classificazione e appunto come intende questa amministrazione poi procedere successivamente lì c'è un'autostrada lo ricordo che attualmente non è previsto nessuno intervento di mitigazione per il rumore capisco che non sia competenza di questo comune perché l'autostrada non appartiene appunto al comune ma di autovie però è un problema sanitario notevole perché questa autostrada è stata costruita da decine e decine d'anni e non si è mai intervenuto in questo caso si tratta anche di un problema di salute pubblica per cui chiedo anche se non sia il caso per quella zona così critica di adottare anche delle misure urgenti e su questo appunto evidenzio questa cosa anche al signor sindaco grazie grazie cosa facciamo assessora accorpiamo le domande rispondiamo puntualmente a ognuna no 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 dovete si ce ne sono allora consigliere del ben prego grazie ho letto che le circoscrizioni hanno dato parere favorevole tranne torre la domanda è quali sono le motivazioni per cui torre ha dato il parere non favorevole e nell'ipotesi che ci fossero delle osservazioni delle richieste particolari se a quelle è stata data ora risposta o se è impossibile fornirla positiva ovviamente non la risposta non sepolle basta bene grazie consigliere Bianchini prego sì grazie presidente domanda all'assessore abbiamo capito in questi mesi che abbiamo vogliato il piano acustico che ci saranno poi una volta adottato il piano 12 mesi per andare a studiare un piano di risanamento acustico della città ma la domanda è sull'immediato nell'immediato la ricaduta sulla città e cioè sulle singole ovviamente come si chiamate celle insomma riquadri qual è ci sarà una ricaduta cioè l'amministrazione o il singolo cittadino dovrà attuare qualcosa nell'immediato per mitigare le criticità che sono state rilevate e l'altra domanda è sulla metodologia di comunicazione di questo piano l'amministrazione come intende informare poi la città grazie consigliere ciannelli grazie a tutti quali sono le conseguenze di rete di internazioni tra grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come credete di risolvere le varie criticità? Ci sono, soprattutto a livello dei punti scolastici, uno, e poi le criticità emerse sono state evidenziate anche dal punto di vista delle zone industriali. E se sì, quali interventi credete siano opportuni nell'immediato siano effettuati? E' possibile che questo piano poi sia reso noto tramite associazioni di categoria alle varie industrie o altro, perché si rendano conto dei vari passaggi che devono adottare per essere applicato? Grazie. Consiglio Perfido, prego. Grazie Presidente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inizio rispondendo alle domande più di pertinenza tecnica. Una cosa che è stata esposta nella presentazione, ma che penso valga la pena sottolineare, perché chiaramente non è molto percepibile al di fuori del procedimento tecnico che ha portato alla realizzazione del piano, è che la legislazione nazionale prevedeva, perché stiamo parlando di una separazione di questi iter già dal 1997, prevedeva due canali normativi che sono stati poi attuati, abbastanza separati per quanto riguarda la gestione del territorio, come stiamo facendo adesso come comune, quello che stiamo chiamati a fare come comune all'interno del piano classificazione comunale, e quelle che sono invece le pertinenze delle infrastrutture di trasporto, dove per infrastrutture di trasporto sono le strade, comprensive di autostrade, ferrovie, aeroporti e porti, che qui non abbiamo. Questo il legislatore l'ha concepito non per sminuire l'importanza dell'una o dell'altra parte, quanto perché la natura proprio delle sorgenti di rumore delle infrastrutture, piuttosto che quelle di altra natura antropica nell'ambito comunale, sono completamente diverse e hanno anche magnitudini completamente diverse. Per cui, ad esempio, se non ci fosse stata questa separazione legislativa, il procedimento di realizzazione di un piano comunale e classificazione acustica sarebbe sostanzialmente inutile per tutto il territorio italiano, non solo per Porta Enone o gli altri comuni della regione, perché le strade e le ferrovie hanno degli impatti acustici talmente elevati che o vengono trattati per conto suo, altrimenti dal punto di vista cartografico, geografico, quindi le mappe che abbiamo visto, si mangerebbero, per dirla così, tutto il territorio. Per cui la separazione c'è stata e tutti i gestori di infrastrutture, compresi Autovie Venete, RFI, che sono le due principali, e anche Friuli Venezia Giulia Strale, eccetera, eccetera, devono accantonare ogni anno dal 5 al 7%, a seconda dell'entità, degli utili per bonifiche di natura ambientale. Il 95% mi pare di queste bonifiche sono di natura acustica, ed è il motivo per cui in Italia stiamo vedendo, abbiamo visto insomma negli ultimi vent'anni, una proliferazione, in questo caso positiva, di barriere acustiche. E' una cosa che si percepisce. Poi ci sono un sacco di altre provvigioni che vengono messe in atto man mano, però le barriere acustiche quando si viaggia in autostrada le stiamo vedendo crescere o modificarsi. A livello nazionale, faccio una premessa forse un po' lunga, ma penso valga la pena spendere qualche minuto per rispondere anche alle domande. A livello nazionale è stato fatto un piano nel quale sono state individuate le situazioni più critiche, non del singolo comune, ma proprio su scala nazionale. E' stato definito per ogni infrastruttura un indice di priorità, quindi chiaramente un indice di priorità che i gestori di infrastruttura devono rispettare nel andare a realizzare queste bonifiche. Naturalmente le autostrade che passano in centro a Milano, in quella zona lì, l'indice di priorità è massimo rispetto a quelle che magari abbiamo noi qua purtroppo in provincia, dove per fortuna però non abbiamo i problemi enormi che hanno nelle grandi città. Da questo consegue cosa che sfortunatamente la priorità che abbiamo qui localmente, ad esempio per la realizzazione di barriere forno assorbenti per quanto riguarda l'autostrada, quindi la 28 piuttosto che anche la statale, che si inserisce in un contesto nazionale, mentre per quanto riguarda l'autodio di Venete è biregionale sostanzialmente, abbiamo una priorità relativamente bassa. D'altra parte questo ci sta dicendo che in realtà rispetto ad altre situazioni nazionali siamo abbastanza bene per fortuna. Naturalmente ognuno percepisce la sua quotidianità e chiaramente un'autostrada vicino piuttosto che una statale vicino dà fastidio. Quindi questo per dire che il procedimento che è stato realizzato, ma non per mancata volontà o per altro, ma proprio perché i limiti di legge che avevamo per questo tipo di lavoro erano quelli, ha guardato naturalmente dove c'erano le infrastrutture, tant'è che c'è una serie di lavorati che tiene conto sia delle infrastrutture stradali, sia del ferrovie e tutto quanto. Sa dove ci sono questi procedimenti in atto da parte degli enti, ma è obbligato a focalizzarsi solo sul territorio, quindi le sorgenti rumorose di natura antropica sul territorio, industrie piuttosto che attività delle persone, ma non di infrastrutture. Quindi questo per dire che c'è chiaramente un'attenzione altissima, perché è importante che sia così nei confronti dei gestori delle autostrade e tra l'altro a questo proposito il Comune ha fatto anche una serie di passi in più rispetto a quelli che sono i minimi di legge e si sta adottando anche di misure di controllo che non sono di pertinenza del piano, quindi non sarebbero necessarie per il piano, ma delle misure di controllo, proprio per volontà dell'amministrazione, del rumore generato dall'autostrada e dalla statale. Per cui ci sono questa campagna che è in corso, che servirà al Comune per avere in mano un documento nel quale dire eventualmente, caro gestore dell'infrastruttura, sei fuori di Toteci, per cosa intendi fare. Quindi questo è, so che rispondo solo parzialmente alle aspettative, ma purtroppo i limiti di legge che abbiamo sono questi, quindi l'ambito normativo. Per quanto riguarda invece le ricadute sul territorio ed eventuali obblighi aggiuntivi, prego, sì. Su questo specifico punto, le analisi condotte, cioè il legame diciamo tra le previsioni del piano di zionizzazione acustica e la presenza di infrastrutture importanti sul nostro territorio, il piano ci ha portato ad indagare chiaramente questa tematica per quanto con le precisazioni che sono state testè esposte. Ne è emerso che entro 100 metri dalla ferrovia, dall'autostrada e dalla statale 13 risiedono a Pordenone circa 5.618 persone, che comunque è un dato interessante da potervi trasmettere. Chiaramente, come diceva l'ingegner Tommasi, gli enti coinvolti nella gestione di queste infrastrutture hanno l'obbligo di proporre un piano di risanamento. Nel caso delle autovie venete, quindi nel caso di Villanova, questo piano c'è già, è stato redatto nel 2007 ed è stato approvato nel 2013, prevede la realizzazione di barriere artificiali di altezza variabile tra 2 e 3,5 metri per un totale di 1.626 metri lineari e 415 metri quadri di superficie complessiva. L'attuazione degli interventi è prevista nel biennio 2020-2022, per cui se Autovie Veneti rispetterà le previsioni del piano di investimento, nel biennio, compreso tra il 2020 e il 2022, verranno effettuati questi interventi di risanamento che riguardano anche uno degli ambiti da lei indicato come meritevole di attenzione. Ecco, chiaramente questo riguarda anche per le ferrovie, il cui piano è già emerso in commissione, purtroppo non indica una tempistica e quindi starà a noi interloquire con l'ente per capire quando intende intervenire a Pordenone, anche perché nei pressi della linea ferroviaria comunque nella nostra città ci sono alcuni edifici scolastici che sono anch'essi meritevoli di attenzione, in particolare nel quartiere di Rorai, in Largo Cervignano e il complesso scolastico di Via Vesalio nel quartiere delle Grazie. E così come Friuli Venezia Giulia Strade per l'interazione col sito dei laghetti Tomadini, che mi sembra che è anche l'altro sito citato. Rispetto alla domanda che aveva fatto credo Loperfido, se ricordo bene, o l'architetto Giannelli, allora, i piani di disonizzazione acustica e i piani regolatori, quindi le varianti urbanistiche, sono intimamente connessi, tant'è che noi nel fare questo percorso siamo partiti dal piano regolatore che al momento era vigente, per poi arrivare nella zonizzazione definitiva con il piano adottato. Quindi il percorso è esattamente di coerenza e questo lo prevede anche la norma, per cui nel momento in cui ci sarà una variante urbanistica ci sarà anche una variante piano di zonizzazione acustica, ovvero i due strumenti continuano a influenzarsi. Anche questo strumento ha lo strumento per i cittadini che è quello delle osservazioni e tra l'adozione e l'approvazione lo strumento sarà appunto messo a disposizione dei cittadini che potranno presentare nei 30 giorni le osservazioni e le opposizioni come uno strumento urbanistico qualsiasi. Mancava qualcos'altro? Credo che il consigliere Loperfido volesse sentirsi ribadire, perché mi pare che questa informazione sia già stata data in commissione, che le previsioni del piano di classificazione acustica non limitano i diritti edificatori. L'obbligo che impone a chi va a concretizzare i suoi diritti è semplicemente quello di rendere compatibile l'attività che svolge le emissioni rumorose prodotte con quello che è il limite stabilito dalla classe acustica di appartenenza del sito dove lui va ad edificare. Per quel che riguarda le scuole, come abbiamo già avuto modo di rispondere al consigliere Daniello in commissione, sono state rilevate diverse criticità fondamentalmente tutte legate al traffico che è il principale fattore di problematiche legate al rumore in città. Come si intendono quindi affrontare queste criticità? In particolare attraverso la progressiva attuazione delle misure previste dal piano della mobilità sostenibile che ha dedicato peraltro una particolare attenzione alle scuole, sia attraverso l'introduzione delle zone 30 che più in generale cercando di incentivare forme di mobilità alternative e quindi andando a ridurre quello che è l'impatto del traffico veicolare. L'altro aspetto fondamentale è quello di andare a proteggere le scuole e quindi le persone che le vivono internamente, gli alunni e gli insegnanti, con l'eventuale sostituzione dei serramenti, l'asfalto fonoassorbente, misure di questo tipo che anche in questo caso possono essere progressivamente attuate. In Commissione abbiamo fatto l'esempio dell'asfaltatura di Viale Grigoletti che nel tratto vicino al Don Bosco la previsione è quella di andare a rifare il manto con questo tipo di asfalto. Sì, mi permetto solo di dire che ho capito le finestre, ma a maggio, ad aprile, a maggio, le finestre vengono aperte. Cioè ci sono misure chiaramente che abbassano perché è la qualità della vita poi non solo all'interno della scuola, ma anche fuori in giardino per esempio. Cioè avete messo in previsione di munire le scuole di qualche barriera ulteriore oltre l'abbassamento di questo tipo di... cioè non è solo l'arrivo a scuola, no? Cioè passano di là le macchine, in continuazione mi viene in mente la scuola Collodi che è adiacente ad una via di transito, no? E quindi se lì c'è una criticità non è solo la zona 30, ok? Sì, questa era la mia domanda prevalentemente. Così come nelle altre strutture. Io ho capito che il privato deve munirsi di delle finestre, no? Però ci sono altre metodologie per abbossare. In questa fase la declinazione degli interventi migliorativi non può che essere di carattere generale perché sarà il piano di risanamento che il Comune dovrà adottare a tempo un anno che andrà ad individuare puntualmente sito per sito laddove sono state riscontrate delle criticità quali interventi andare ad attuare per contenere o mitigare l'inquinamento acustico. Per cui una risposta puntuale potrà essere data solo in quella sede. Ricordo quello che ho detto in premessa. Questo piano, il suo compito fondamentale è stato quello di fare una fotografia e quindi di far emergere le situazioni di pregio ambientale, di particolare sensibilità che meritano di essere protette perché non sono compromesse e quelle invece dove ci sono delle criticità reali dove bisogna intervenire attraverso l'elaborazione di un piano di risanamento. Questo è il compito principale del piano acustico. Poi mi rendo conto che ci possa essere stata un po' anche di confusione generata dal fatto che elaborando questo strumento assieme al piano della mobilità e assieme al piano regolatore ad alcune criticità attraverso questi due strumenti si sia già cercato di dare risposta. Diversamente le previsioni di questo piano avrebbero dovuto tradursi anche in delle azioni legate... il fatto che noi lo abbiamo fatto contestualmente può certamente indurvi a chiedere, a sollecitare una maggior tempestività anche in altre situazioni che invece rimandano all'elaborazione di un piano di risanamento acustico e quindi nell'arco di un anno. Consiglio Bianchini, sempre richiesti i chiarimenti? Sì, no, perché capisco che l'assessore giustamente prima risponda all'opposizione perché è corretto, poi ovviamente perché un gentleman risponde per la quinta volta alla consigliera Daniello che in commissione ha fatto le stesse domande ma anch'io come consigliere di maggioranza le chiedo se per piacere mi dà una risposta politica ovviamente anzi prima non tanto politica per capire se sull'immediato questo piano ha una ricaduta sul cittadino e sulla città nell'immediato pur sapendo che entro 12 mesi bisogna fare il piano di risanamento acustico e poi la metodologia di comunicazione per la città. Grazie. Allora, per quel che riguarda le ricadute immediate per quel che riguarda aziende in particolare le aziende diciamo si tratterà di fare una verifica se il livello di emissioni rumorose emesse dall'attività è incompatibile con quelle che sono le classi di appartenenza dove queste attività vengono svolte perché qualora non fosse così anche queste aziende dovranno elaborare un piano di risanamento acustico. è corretto, è corretto, aggiungo solamente che in realtà no, è corretto però aggiungo per completezza e per prevenire domande che sarebbero opportune altrimenti che la zonizzazione è stata fatta anche appunto sulla scorta delle misure cioè le misure non le abbiamo fatte a gratis così per ridere sono state fatte e sono state uno dei perni fondamentali attorno ai quali è stato costruito il piano per cui all'attualità non ci sono sul Comune di Porninone delle criticità di carattere industriale che richiedano delle azioni relativamente a questo piano attenzione, relativamente a questo piano quindi questo vuol dire che questo piano non introduce dei vincoli o degli obblighi aggiuntivi questo non vuol dire che le singole industrie non devono rispettare tutte le altre leggi ambientali e in particolare quelle acustiche che non necessariamente vengono rispettate perché si rispettano i limiti di piano quindi ci sono tutta un'altra serie di valutazioni che devono essere fatte a carico delle aziende ma che dovrebbero essere fatte già prima e dovranno essere fatte anche in futuro non aggrava perché il tipo di analisi che è stata fatta è stata fatta per quanto riguarda le industrie sulla base delle misure con i decadimenti quindi è stato fatto un lavoro direi non perché l'ho fatto io ma perché mi è stato richiesto mi è stato imposto dal Comune di fare un lavoro estremamente dettagliato cosa che in altri comuni neanche lontanamente ci si sogna di fare che su 42 misure effettuate presso le zone industriali nessuna ha evidenziato delle criticità legate alle emissioni prodotte dalle attività stesse casomai qualche criticità legata al traffico in due casi invece le misure hanno evidenziato delle criticità diciamo dettate da attività rumorose generate da aziende si tratta degli impianti dei due ospedali l'ospedale civile e il policlinico e questo ha confermato quello che è emerso dall'esame di uno degli annessi al piano che è quello degli esposti per rumore che sono pervenuti nel Comune negli ultimi anni laddove le maggiori criticità segnalate sono state proprio quelle dettate dalla presenza di impianti di impianti in particolare quelli di condizionamento di climatizzazione la ringrazio di aver risposto al signor Bianchini se lei mi rispondeva per favore alla domanda che le ho posto se riesce a far arrivare il piano alle varie aziende tramite il piano come ITER prevede che venga pubblicato e che ci sia un periodo poi di come tutti i piani per cui poi le aziende avranno sei mesi per adeguarsi qualora ci siano superamenti questo perché lo prevede la legge siccome non ci sono superamenti in realtà il tutto dovrebbe risolversi più sinteticamente Sì, da un punto di vista della comunicazione l'attenzione sarà la stessa che c'è stata in occasione della redazione del piano regolatore in particolare Sì, ma si prenoti quando io dichiaro aperto così siamo Altre domande di chiarimenti? Nessuno Bene, allora dichiaro aperta la discussione Prego, consigliere Giannelli Allora, intervento prettamente politico Perché dico che ho capito la vita Ma quanti che? L'archituto per la sondazione di passati che non riesce più a vedere il testo Ma non perdono i dati Assessore, è il sindaco Sì, è un assolutamente nella stessa condizione del piano regolatore del piano vero comunitario e di questo piano vero corso Cioè, ci sono arrivati tanti perché tra l'adozione e l'approvazione ci vanno inizio le lezioni nel prossimo anno perché sfido più no Assessore Io la sfido ad arrivare in attenzione con questo piano per una benedizione Cioè, approvazione è la stessa cosa del piano regolatore Unite, unite che comanda i miei ucchi Ci ha visto due anni tra l'adozione e l'attrovazione e l'attrovazione Quindi, l'assessore ma anche l'attrovazione stanno brava ma sapete che salvo che non veniate ridetti tutti che non veniate ridotti tutti E per oggi no Se iniziamo a noi alle prossime lezioni sapete che questi tre anni vi generano con convocazione perché li abbiamo saputo sul piano regolatore fatto ma è un piano non di istituto non di trasformazione non di crescita ma è un piano di decrescita un piano di congelamento un piano che non attiva la maglia di vestitore il via di vestitore che funziona e quindi ci facendo del via di vestitore non troverà la maglia di su un piano della maglia abbiamo detto che un piano è poco patetico e di stasi che non ci sia l'assessore e quindi anche quello non rendere mai a gestire questo io stesso perché mi servito a dare un'altra cosa del piano che è la conseguenza di a cascata e a non rivoluzione che è la conseguenza che è la conseguenza Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Pongo in voto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.